Oh, ha visto la inquadratura? Guarda le luci, guarda le cose. No, ragazzi, la regia era anche altro, l'intensità della scena e capire come farti entrare in un contesto emotivo. E questo non è per forza con l'effetto speciale o col piano sequenza o con le luci fighe o rallenti con la musica. Oggi si fa fatica a farlo capire. Benvenuti a una nuova puntata del Bazar Atomico. Ospite di oggi, Svevo Moltrasio. E' autore, regista e interprete di Rittals, la webserie sulla vita degli italiani a Parigi, che ha superato le decine di milioni di visualizzazioni su YouTube e Facebook. Nel 2017 ha pubblicato per Sperling & Kuffer il libro Parigi senza ritorno. Dal 2019, dopo che è entrato a Roma, continua la sua attività sul web con la sua nuova serie Il Rimpatriato. Nel 2023 il suo lungometraggio Gli Ospiti segna il suo esordio nel mondo del cinema. Pensate, grazie a una campagna di crowdfunding che ha coinvolto in soli due mesi oltre 3.000 donatori e raccolto oltre 100.000 euro. Prima di iniziare, come al solito, ti ricordiamo che qui beviamo solo caffè carnera e che il podcast è prodotto dall'azienda di formazione finanziaria Money Surfers. Ora però mettiti comodo e goditi lo show. Ciao Svevo! Oh, abbiamo iniziato! Eh sì, si parte così a tuono e parto subito a tuono anch'io con questa roba. Martedì ho l'aereo per Parigi, perché vado a vedere... Non lo fare! Ti sdici! Cioè, sembra fatto apposta, ma non lo è. Infatti quando Silvia, che saluto, che è la nostra collaboratrice che si occupa qua della produzione del Bazar, mi ha detto, vienesvevo. Cazzo, ho guardato il programma e ho detto, ma io martedì devo andare a Parigi. E quindi te l'ho detto e adesso so che me la smerderai tutta. Beh, ci sono andato mille volte a Parigi. Io ci ho passato un mese tra maggio e giugno, è stato benissimo. Che era successo? No, ma in vacanza è bellissimo, come tutte le città. No, ma poi sarà un caso ovviamente, però devo andare a Parigi perché devo andare a vedere un concerto di un artista che non fa la data a Milano, non fa la data in Italia. Chi è? PJ Harvey. Ah, come no? Io sono un fan totale e quindi ho guardato le altre città e c'era Zurigo, Berlino, Amsterdam. E tu hai scelto proprio? Io ho detto, Parigi, devo andare a Parigi, ma perché vedi, io in realtà, come dici tu, per motivi di, come dire, leisure, cioè passatempo, Parigi la trovo perfetta perché comunque ha quella zona pedonale enorme, sempre più strutturata per godersi la vita se c'hai i soldi. Però, da quando ho deciso che devo andare a Parigi, è uscito tre giorni fa la questione delle cimici da letto e poi ieri leggo le Figaro e tutti, minaccia giadista. Quello è un classico, ormai sono i rischi di Parigi, però, ripeto, quanto giadista? Tre notti, tre notti. Dai, saranno quattro? No, vabbè, dai, goditela. Però tu sei durato dieci anni, comunque. Cioè, non so come dire, la parabola dell'amore e odio. Cioè, l'amore è durato 48 ore, però l'amore e odio è durato, cioè, com'è andata? Amore non c'è mai stato. Veramente? No, amore no, non posso dire, ma nemmeno odio, attenzione, nemmeno odio. Posso guardare anche un po' lui, intanto. No, se vuoi ci giriamo anche così. Anche James Cameron, anche James Cameron puoi guardare. No, in realtà, ho esagerato tutto nei miei racconti. Insomma, non posso dire, sono mai stato innamorato di Parigi, questo sicuramente no. Ho avuto dei periodi molto difficili nei confronti di Parigi, ma come poi capita, un po' per tutte le città, adesso sono tornato a Roma da ormai cinque anni. E già vuoi te ne guardare. No, assolutamente no, attenzione, sono felicissimo di essere tornato e ci voglio restare tutta la vita, non è quello, però viviamo una società stressante, ragazzi, e poi questo stress lo riversiamo spesso sulla città, perché tutte le città hanno degli inconvenienti che te prendono in un momento di stress tu e te la prendi con la città. Quindi lo facciamo per tutte le città, lo faccio anch'io per Roma e tutto quanto. La differenza è che poi a un certo punto, quando è il tuo sfogo, poi riesci un po' a riequilibrarti nei confronti della città. Io con Parigi facevo fatica, cioè avevo lo sfogo, dopo poco me ne è arrivata un altro e dopo poco un'altra ancora, quindi poi a un certo punto fai veramente fatica. Ma anche perché io Parigi l'ho vissuto da straniero, quindi magari un parigino, un francese, sicuramente non ha vissuto, per esempio, il trauma. Dell'integrazione, un francese, essendo francese, parigino, oddio, avrà vissuto pure lui, però in forma più lieve. E quella è una delle grandi problematiche di Parigi, ma di tutte le grandi megalopoli moderne. Cioè tu ci arrivi da fuori, ci arrivi da straniero ed è difficilissimo integrarsi nella comunità francese, ma non solo. E quello quindi ti fa sempre vivere la città con gli occhi di uno che sta all'angolino, scusate, e nessuno l'ascolta. Questa è una componente che non soffro a Roma, ovviamente, non soffri probabilmente nemmeno a Milano. Poi c'erano altri fattori, l'ho sempre detto tante volte, per me il clima, magari qua a Milano non vuoi cambiare niente. Però io venendo da Roma, il clima di Parigi è stato faticosissimo per me. Sembrano cavolate, però quando tu sei cresciuto con il luogo, cioè che tu sai che ti svegli e c'è il sole al 90% nel periodo dell'anno, e poi ti ritrovi in una città in cui il sole incomincia ad essere un miraggio ogni tot, so quelle cose che in vacanza ti sembrano delle fesserie, ma a lungo andare in una vita stressante come quella contemporanea, lo subisci fortemente, il clima, l'integrazione, il fatto che è una città ultra stressante perché c'è troppa gente. Cioè Parigi è un buco, è più piccola pure di Milano, però ci sono, sì, all'interno di Parigi, abitanti dichiarati, sono 2-3 milioni, che comunque sono tantissimi. 2 milioni e 100, come comune. Due specializzate di geografia. La sapevo anch'io, la cifra precisa, ma non volevo fare il pegnolo, ho detto 2-3 milioni, perché poi ci sono quelli che ci stanno, ma non lo sappiamo. Ma la differenza è che c'ha, diciamo, tutta la periferia, chiamiamola così, che però sono comuni a sé stanti. Quasi 10 milioni. No, no, arrivi pure a 12, arrivi proprio, insomma, è infinita e ovviamente la massa di gente, la maggior parte, viene al lavoro a Parigi durante il giorno, quindi tu all'interno di quel perimetro minuscolo te ritrovi anche 10 milioni di persone, cioè è impossibile gestirle. E infatti è un'altra cosa che io soffrivo tantissimo e che racconto sempre, che mi fa ridere che il ricordo di Roma rispetto a Parigi era di un paesotto provinciale, che di campagna, un villaggetto a Roma rispetto a Parigi, perché Roma è una città molto più grande di Parigi, che ha appunto 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni, diciamo, nella cerchia. 2 milioni e 750 mila abitanti. Poi sono io quello che gli piacciono i freddi dati, mamma mia, questo è peggio di me. Ma su quello è così. Farà facile con Wikipedia davanti. E che stava a dire? No, no, che Roma comunque c'è una densità. Roma, d'altronde, è una delle grandi città con la densità più bassa. Sì, Roma era stata eletta la capitale europea più verde, poi è stata superata da Stoccolma, però effettivamente Roma... Roma è l'unica, penso, grande città moderna che ha proprio la campagna all'interno della città. Cioè i quartieri di Roma sono staccati da zone proprio di campagna. Comunque questo fa sì che la città è deserta rispetto a Parigi. Quindi per me il ricordo di Roma era il paesello, cioè nessuno sta tranquillo. E lo confermo, cioè tornando a Roma è un'altra vita. E queste cose alla lunga, ripeto, sono estremamente stressanti. E comunque appunto veniva dalla capitale d'Italia, non è che veniva dal paese sotto. Quindi, nonostante ho sofferto molto lo stress, l'inquinamento acustico, umano, e come si diceva, lo smog proprio della città. Cioè non ce la facevo più con sta cappa di grigio, un cielo costante. Metteci pure le difficoltà professionali, tutto quanto, il costo della vita, il cibo. Cioè vabbè. No, no, guarda... In tre giorni non succede niente. No, vabbè, in tre giorni non lo so, ma io, allora, chi ci segue da un po', scusatemi perché lo dico ogni puntata, però in questo caso lo devo dire. Che hai vissuto a Bruxelles. Esatto. No, io e lui abbiamo un sacco di cose in comune, perché anch'io ho vissuto all'estero per un bel po' di anni e sono appassionato di vicino. Vabbè, io ho lasciato Berlino per il clima. Berlino peggio ancora. Tu sei durato un anno. Eh, un anno, vabbè. Comunque per dire che un anno è bastato, è avanzato. Sì, no, io penso che io sono... Io andavo a Parigi per sentire il Mediterraneo, da Bruxelles. Non lo capiscono. No, veramente, io scendevo dal... Come si chiama? Il Thalys. Scendevo dal Thalys e dicevo, ah, cazzo, ma qua sono nel Mediterraneo. Anche solo il fatto che c'erano... A Parigi ci sono le persiane. Nei paesi del nord non ci sono. Per quanto già ti fa capire. Vuol dire che il sole non c'è mai, manco d'estate, a Bruxelles. E si andava a Parigi per vedere il sole. E pensa che a Parigi c'è il mito invece di Bruxelles. Cioè tutti, i parigini in particolare, sognano di... Io sono stato per anni con una parigina e parlavamo spesso dell'andare via da Parigi. Io perché volevo tornare in Italia. A lei pure perché un po' soffriva anche lei lo stress. E lei insisteva per andare a Bruxelles, andare a Bruxelles. E me la definiva sempre... È una piccola Parigi, però piove di più. Ma che cazzo... Ma che cazzo non aveva facendo, scusa. No, sono venuto spesso anche con Rital. Abbiamo fatto tanti eventi a Bruxelles. Insomma, pure lì la comunità italiana fa fatica pure lì. Ci sono degli aspetti che sono migliori. Per esempio se era meno stressante di Parigi, immagino. Cioè, meno casino. Ma certo. Ma in effetti io quando poi tornavo sentivo l'odore dell'aria. Sentivo il silenzio. E no, Bruxelles sotto quell'aspetto ha tutta la vita. E avevo degli amici di Parigi che venivano tutte le volte. Ah, c'è magnifico. Voilà, ma oui, c'è la vie, c'è passia. E no, però una cosa che è interessante che ho pensato guardando i tuoi video. Cioè, non so come dire, è come se hai scoperchiato un'ipocrisia. Non so come dire. Il fatto che tanti italiani vanno all'estero e hanno poi... Se glielo chiedi, dici, no, beh, ma qua si vive meglio. No, ma qua sono evoluti. E no, ma qua i servizi sociali sono un certo tipo. Ma siccome, la dico, posso dirla bruttale? Dai, fatemela dire. Siccome lavorano là, vengono pagati di più. E hanno comunque, non so come dire, fatto una scelta alla quale sentono di dover tenere fede. E sai, quando uno deve dire a se stesso e agli altri che ha sbagliato, che ha cambiato idea, non ha il coraggio di farlo. Tu invece l'hai fatto e secondo me hai scoperchiato un vaso di Pandora. Un po' come Frank Gramuglia che dice il mio lavoro mi fa cagare. Tu l'hai fatto per gli italiani all'estero. Cioè dicendo, no, raga, non ci stiamo... Cioè diciamo la verità, siamo qua solo perché non abbiamo... Se uno avesse il lavoro figo e vivesse in maniera di nittoso, dove cazzo vai? Eppure io sono rimpatriato, lo dico. Ma questo, lo dico sempre, è stato il grande successo della serie. Perché è nata proprio perché io vivevo all'estero mai da anni, perché ho iniziato a fare la serie, che erano già cinque anni che stavo a Parigi. e i miei primi cinque anni a Parigi sono stati faticosi davvero perché stavo con un'italiana, facevo fatica proprio immensa anche a imparare bene la lingua, quindi l'integrazione era zero a quel punto lì. Lavoravo in un call center, cioè io che volevo al cinema, ero andato via da Roma, che stavo comunque lavorando nel cinema, ma sono andato a Parigi a fare call center, a strappare i biglietti a teatro. E ogni volta tornavo a Roma, a casa, d'altro la mia madre, sentivo la radio perché mia madre, c'è mancata la visione, e sentivo sempre queste trasmissioni che conoscevo, queste interviste degli italiani all'estero, che erano sempre, vertevano sempre su... Io in Australia ho trovato la mia dimensione, la burocrazia è perfetta, c'è la meritocrazia, ho il lavoro, ho una casa da 600.000 metri quadrati, non la pago, mi hanno regalato tutti. E quello in Australia, quello a Londra, quello là, sempre intervistato questi italiani, mi dicevo ma io sono l'unico sfigato, è andato fuori e non fa niente. E allora io proprio per quello mi sono detto io ho raccontato la storia mia, perché non la racconta nessuno, la storia dell'italiano oggi emigrato che soffre, che non ha trovato lavoro, che vuole tornare a casa, o che comunque sta lì, che non sa bene che fare, che comunque dove sta non è che gli piace così tanto, che non riesce a integrarsi, sarà la mia esperienza personale, la vivo solo io, ma la voglio raccontare. E invece la serie è partita subito, è andata subito molto bene proprio perché ho intercettato invece quella fetta enorme di pubblico, chiamiamolo, insomma, di italiani all'estero che sentivano il bisogno di un racconto del genere, perché mancava completamente. Il racconto era esclusivamente quello dell'esaltazione dell'estero, quando ovviamente invece era estremamente condivisa l'esperienza della sofferenza, perché anche chi ha un lavoro e tutto quanto all'estero, la stragrande maggioranza ha nostalgia, ha difficoltà di integrazione, tutte queste cose qui. Quindi comunque vai a toccare gli argomenti che anche loro hanno vissuto. E certo è stato, da quel punto di vista, è stato anche poi, ho ricevuto anche molte critiche, proprio perché in qualche modo ho rovinato, non il sogno, ho rovinato il racconto che molti italiani all'estero facevano a casa, a chi era rimasto a casa, cioè esaltando il tutto. Smascherato. Il fatto che, regà, anche perché poi c'è una questione psicologica, io lo dico sempre, quando vai all'estero e ricominci tutto da capo, hai soddisfazione anche solo quando riesci a comunicare con la cassiera al supermercato. Poi, sai che ci sono, c'erano degli italiani che conoscevo lì a Bruxelles, ma anche, tipo, io ho un'azienda di formazione in Svizzera, no? E assunto degli italiani, tipo, c'era questo ragazzo pugliese che doveva raccontare ai genitori che era andato a lavorare in Svizzera, che noi siamo un centimetro dopo la frontiera, no? E tornato, si è comprato, cos'è quelle cose che coprono lo specchietto della bandida della Svizzera per far vedere che era entusiasta della Svizzera? Ah, ma la Svizzera è bellissima. In realtà non era così. Cioè, oppure anche quando ero a Bruxelles mi dicevano, tipo, le carrozzerie hanno un picco a giugno-luglio perché gli italiani che tornano in macchina da Bruxelles devono far vedere che hanno svoltato all'estero, quindi non puoi andare, tornare indietro con la macchina rovinata, quindi devi levare le botte della carrozzeria, eccetera. Cioè, c'è questa dinamica psicologica di dire, vabbè, io sono andato via, non sono un coglione però, cioè, mi sono perso questo, però in cambio ho avuto il benessere. Ma anche perché spesso chi va via lo fa un po' forzato, cioè, è raro che te ne vai perché non è piacere voglio andare via, lo fai un po' forzatamente, spesso vivi in un periodo estremamente difficile però è ancora più difficile tornare a casa e dire, no, c'è un disastro, ragazzo, ho peggio di voi. Però ripeto, anche psicologicamente come dicevo prima, è vero, l'ho vissuto anch'io, quando vai fuori ricominci una vita nuova e piccoli gesti, piccoli obiettivi che raggiungi che a casa tua era nulla, all'estero diventano una cosa che tu stesso vivi con grande... e quindi poi sono andato, ho preso il latte, ho fatto tutto da solo, mi hanno capito, gli ho portato i soldi, perché lì poi ti danno il resto... sei andato a fare la spesa, quindi però la vivi come una grande impresa perché lo fai in un paese nuovo, quindi a queste piccole cose, io me lo ricordo quando le prime volte comunicavo col proprietario di casa al telefono in francese, mi registravo, mi risentivo, ce l'ho fatto, io ho detto tutto, ammazzo, sono bravo, cose che a casa tua non racconteresti, ho chiamato il mio proprietario di casa e mi sono fatto dare le chiave nuove a questi cazzi. Quindi è un processo psicologico che ti porta a vivere nuove esperienze che hai già vissuto e che sono elementari, però in un nuovo contesto hai un grande entusiasmo. Sono tanti fattori che ti portano ad avere questa percezione, capito? Sì, poi c'è da dire che con questo, questo è quello che penso io, non so come la pensi tu, tutta la vita fare un'esperienza all'estero, cioè credo che davvero debba essere un'esperienza che per i ragazzi, io ai ragazzi consiglio sempre perché appunto devi, se non hai voglia di studiare e di fare la laurea, fatti 3-4 anni all'estero perché è un po' un obiettivo di vita che devi sapere ottenere. Io lo dico sempre, consiglio assolutamente il viaggio all'estero un'esperienza lunga, sono felicissimo di averla fatta, potessi tornare indietro, indietro la rifarei prima perché comunque sono andato abbastanza in là, avevo quasi 30 anni, quindi ero già abbastanza grande, ma io sono contentissimo di averla fatta, mi ha cambiato la vita, mi ha fatto crescere tantissimo, mi ha fatto anche rivedere il mio paese, cioè in una chiave diversa, mi ha fatto maturare moltissimo, quindi assolutamente ti lo consiglio e è un'esperienza comunque che ti arricchisce, quindi assolutamente, magari non è andata a Parigi. Sì, allora, infatti, dico una cosa un po' autoreferenziale, però nel senso Bruxelles perché non ha tutti quei difetti che ha a Parigi, perché a Bruxelles non esistono i bruxellesi, un po' come Milano. Ma ormai non è anche a Parigi, i parigini sono pochissimi. Però è la capitale di una nazione, la Francia, il Belgio non è una nazione, è un finta nazione, nessuno si professa oige sui belgi, no, perché sono balloni e fiamminghi, quindi non c'è lì, non c'è un'identità e quindi ti senti un po' meno, come dire, tu, diciamo, a casa di un impero, come è la Francia. Però ti dirò, quello lo vivi anche a Parigi perché davvero sono pochissimi francesi, pochissimi parigini, pochi francesi, cioè, è pieno di arabi, italiani, Sud America, cioè, non è che arrivi lì dentro e sei l'unico con i capelli neri, quindi, eh, non è tanto quello, è sicuramente la Francia, è un paese con una tradizione fortissima, quindi, da quel punto di vista, non è tanto Parigi proprio la Francia e c'è questo aspetto, però Parigi, è un po' un paradosso perché Parigi, più di Bruxelles, è proprio un porto, il problema è che è fin troppo un porto, nel senso, un altro problema di Parigi è proprio quello di instaurare dei rapporti perché è una città molto di passaggio, capito? Quindi difficilmente riesci a conoscere persone che stanno lì da tanto e che sanno e ci ritesteranno e quindi fai un sacco di amicizie così, un po' use e getta, cioè, il tempo è stringere amicizia, a parte quei francesi ci vogliono dieci anni per stringere amicizia, manco ce la fai, però, anche con gli altri stranieri, diciamo, tempo uno, due anni, se ne vanno, arriva qualcun altro, è un continuo, perché poi in pochi restano perché è una città che costa tantissimo, quindi, o hai proprio la fortuna di trovare il lavoro giusto, l'occasione, ma anche da quel punto di vista tanta gente, l'ho conosciuto, un po' si stancano perché le prospettive sono, e questo gli italiani non vogliono capire, si guadagni tutto, ma ci sono dei prezzi di sumare, ci sono delle case, cioè, uscire, superare i 40 metri quadri per un appartamento a Parigi, cioè, devi avere un lavoro che guadagni più di 5.000 euro al mese per permetterla, quindi, alla fine fai fatica a restare lì perché vedi che la prospettiva qual è? Lavorare, 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 lavorare e restare sempre in 30 metri quadri più o meno, quindi, è un continuo, poi ci sono tutti gli studenti, Erasmus, quindi, avrai i pro e i contro rispetto a Bruxelles, sensazione che Bruxelles è più tranquilla, è meno, appunto, ha una tradizione meno angosciante come a Parigi, però, dall'altro canto, Parigi è più grande, ci sono più opportunità, per esempio, a me manca la vita culturale di Parigi, l'ho sempre detto, è l'unica cosa che sapevo che mi sarebbe mancata, cioè, Parigi, come un punto di vista, è il centro dell'Europa in termini culturali, cinema, teatri, musei. Vero, io sono purtroppo d'accordo con te, nel senso che Milano ambisce ad esserlo, però mi sa che siamo ancora lontani da Parigi, dove io l'altro giorno ne parlavo con loro, prima ancora di sapere che era il tuo arrivo imminente, comunque ragazzi, sto guardando che tutti i brand più fighi, magari devo comprare delle robe tecniche per andare in montagna, anche italiani hanno il negozio, l'unico negozio all'estero che hanno, hanno a Parigi, cioè a Parigi, credo, che abbia un po' sostituito Londra come, epicentro dell'Europa. Sì, o comunque se la gioca con Londra, insomma, sì, da quel punto di vista, e ripeto, per me che sono poi appassionato di cinema, per esempio, c'era una possibilità, a parte c'è, in generale, lo dico sempre, tra i francesi, i parigini, c'è un interesse al cinema che da noi ce lo sogniamo, cioè a Roma, io ho detto sempre, un cinefilo italiano equivale a uno spettatore medio francese, nel senso che uno spettatore medio francese vede almeno due o tre film a settimana, che da noi uno fa così è un cinefilo, e c'è una distribuzione di film che vengono da tutto il mondo, ci sono infinità di sale, ci sono i film in lingua originale, ci stanno per delle settimane, li puoi recuperare, qua da noi sono sempre meno sale, sono solo multisale, sono sempre il 90% del prodotto americano, i film stranieri, stranieri non americani, hanno quelle due salette lì, che più di volte sono pure doppiati, o comunque li tengono, devi correre, andarla a vedere, prima che lo tolgono, c'hanno solo spettacoli nuove, perché non c'è interesse da noi purtroppo, la gente va più al cinema, invece in Francia continuano, nonostante la crisi, continuano ad andarci, quindi per me per esempio, ma quello lo sapevo, c'è l'abbonamento, con 20 euro al mese io puoi entrare in tutte le sale, l'80% delle sale, quella è una gran cosa, perché il biglietto singolo costa lire di Dio, manco mi ricordo, più di 15 euro, però c'è il parigiano, la Francia punta molto sugli abbonamenti, queste cose qui, e se sei interessato a qualcosa sicuramente trovi dei vantaggi da quel punto di vista, infatti per me quando appena arrivato febbi lo shock del tipo 15 euro al biglietto, che all'epoca era ancora 5 euro, quando sono partito via a Roma dico 15 euro, ma io mi divento povero, cioè vado al cinema, e poi mi dissero, sì ma allora se vai spesso, fatti abbonamento, 20 euro al mese e entri tutte le volte che vuoi, ma lo facessero in Italia, no in Italia è impossibile, lo proponi, no, e questo aspetto è interessante, perché effettivamente anche se confermi, a me no, a Bruxelles era così, ma anche a Parigi è un po' così, anche sui mezzi pubblici è un po' meno cellulare, un po' più libri, il francese legge di più, va più al cinema, legge di più, sicuramente, beh, queste non le dicono in statistica, voglia, se guardiamo le vendite editoriali, libri, c'è un abisso, sì, tutta la vita culturale, i francesi rispetto all'italiano, beh, i francesi da questo punto di vista sono proprio leader mondiali, non per forza leader, però insomma stanno sempre nelle parti alte delle classifiche, noi stiamo sempre nelle parti basse, purtroppo, ed è un peccato, perché come tradizione non abbiamo niente da invidiare ai francesi, però diciamo che noi da una quarantina d'anni abbiamo avuto un po' un crollo da questo punto di vista, e quindi sì, il francese è molto più interessato alla vita culturale e artistica. E tra l'altro, sai che mi è venuta una connessione neurale in questo momento, perché uno dice la cultura in Italia, non so se vai da Salvini, investiamo più nella cultura, figurati, però magari c'è un link, io che sono un ottimista, che è una parola orribile, mi dico, sai che tipo Armani tipo un mese fa ha detto, ma perché, gli hanno chiesto, ma perché non vendi anche tu che hai 85 anni fa, no ma che tristezza l'idea di essere l'ennesima casa di moda che vende ai francesi, che i francesi stanno colonizzando non solo nella moda, ma in tutto, cioè le grosse imprese dell'eccellenza italiana gradualmente stanno, o francesi o tedeschi, ma molto più francesi. I francesi dominano nel nostro paese in lungo e in largo, non ne abbiamo parlato, però anche nel mondo della scorsa puntata dei media, Vivendi, che ha preso Tim e doveva prendere anche Mediaset, c'è un dominio su tutti i campi, quello francese su quello italiano, e mi domando se magari è proprio questo, come dire, questo spessore culturale che genera una società vincente. Vincente è una parola, un'altra parola orribile, sia ottimismo che vincente taglia, Giovanni, censura. Forse è quello prima, taglia. Non lo so, sicuramente è un paese alla base più ricco del nostro, quindi da quel punto di vista sono agevolati, poi sicuramente hanno fatto degli investimenti delle scelte migliori rispetto a noi nel tempo, per cui ad oggi sono molto più potenti economicamente di noi, poi non lo so, non conosco le dinamiche così bene da poter esprimere un'opinione a questo punto di vista, però è un dato di fatto. Ma quando parli con un francese il dialogo è più interessante o meno interessante in media rispetto a quando parli con un italiano? Perché poi quello è la cartina torna a sole. Ci sono due fattori, poi dipende da ognuno, però se io devo fare, se voglio parlare del mondo, dell'attualità, del cinema, sicuramente mi trovo molto meglio con un francese, con un francese poi, attenzione, con un parigino, insomma con chi è nella zona parigina nelle grandi città, voglio dire, perché la Francia fuori da Parigi è campagna, non c'è niente, non c'è mucche, quindi parliamo di Parigi, però parliamo di Parigi, Roma e Milano, voglio dire, non parliamo di Parigi e la provincia italiana, non c'è paragone, cioè io questo lo soffro tantissimo, purtroppo. Altro canto, d'altro verso però, se ho bisogno di parlare umanamente, raccontare qualcosa, confidarmi umanamente appunto su qualcosa di intimo e tutto, tutta la vita in italiano, cioè col francese c'è il muro, te parla come se stessi a parlare del film, invece in quel momento vorrei che parlassero in un altro modo, quindi non si può avere tutto purtroppo, quindi se ho bisogno, poi certo, per come sono fatto io che passerei il 90% della mia vita a parlare di cinema, di cultura, di arte, soffro molto la mancanza dei parigini, però ripeto, io poi quando stavo a Parigi impazzivo, perché ho frequentato per anni, sono stato come dicevo per anni con una parigina e mi ha portato in giro per aperitivi e cose, ho conosciuto un sacco dei francesi, e me volevo sparare, a un certo punto io volevo parlare a Ruti e scoreggiare, però almeno condividere delle cose più umane, cioè non c'è empatia, non riesci proprio a creare un rapporto, io ho scritto anche un libro, l'ho raccontato bene, piccoli gesti quotidiani di noi italiani che ti permettono di entrare in confidenza immediatamente, come può capitare tra di noi dopo due secondi ci diciamo una cavolata e ti attacco subito a un racconto di privato, ma col francese... Sì, poi scusa, c'è anche un discorso che riguarda internamente, cioè perché il romano io sono stato settimane da scorsa, già dal taxi, rispetto a Milano a Caglia, di solito più vai giù e più è così, insomma più vai in zone calde e più è così, certo a Roma, a Napoli, poi ancora di più, però io anche questo mi è tornato in mente di recente perché, di recente venendo a Milano perché una delle ultime volte che sono venuto a Milano era proprio per il libro che era Sperling & Kupfer quindi venivo qui e la mia editor mi invitò, io stavo a Parigi in quel periodo, la mia editor mi invitò a una cena a casa a Milano di gente che non conoscevo, pure adulti, quindi io avevo l'ansia perché venivo dagli anni parigini che quando ti invitano a casa a cena e non conosci nessuno è un bocca al lupo, sei lì all'angolino così e ti fanno ah, ciao, come stai, bene, ciao e non ti parlano più e quindi io ho un po' sta paura, invece mi sono divertitavantissimo, cioè sono diventato subito amici miei milanesi perché comunque nella scala di valori bravo, infatti pure io quando sono andato via mi sono, ho riscoperto, io da snob perché c'era Berlusconi, l'ennesima volta che Berlusconi è andato al potere e abbiamo preso come pretesto senti, andiamo all'estero, io la mia tipa di allora e cazzo, dopo là ho capito quando sono rientrato la prima volta, la prima volta che sono stato su, sono stato su più di sei mesi, il primo secondo che ho incontrato una persona e mi ha dato un conoscente, mi ha toccato, tu lo dici anche nei tuoi video, mi ha toccato, a me non dà fastidio che mi ha toccato, ho sentito una scarica di umanità, ho detto cazzo sono tornato a casa, una parte del cervello si è rilassata, come diceva il professor Bellavista, siamo sempre meridionali di qualcuno, esatto, ne so qualcosa, io che lavorando in Svizzera quando vedo i cartelloni elettorali che sono fuori adesso della Lega dei Ticinesi che ce l'ha con gli italiani e poi supero il confine e c'è la Lega dei Salvini che ce l'ha con i marocchini, cioè è tutto un... no, però quella roba lì della... ma questo ne hanno riconosciuto anche i francesi, perché poi ho conosciuto anche la comunità di francesi che sta a Roma. E lei? No. Ok. No, 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 possiamo rispondere. La mia compagna, perché so mai... chi è che è che è che quando era in età di te Lega? anzi, ci stiamo preoccupando affinché la tua compagna sia supportata da te in una giornata di viaggi, insomma. Allora, ho conosciuto anche la comunità di francesi in Italia, poi in particolare a Roma, è stato molto interessante, perché a me mi dicono sempre perché nessuno racconta il punto di vista opposto, cioè i francesi a Roma o in Italia, perché non lo racconti tu? Io. Diciamo, ma io che ne so, io ho raccontato il mio punto di vista, ora mi metto a far racconto dei francesi a Roma, che ne so. Però, per curiosità, a un certo punto, proprio per lavorare su questo materiale, sono andato... non sono andato, mi contattavano anche gli stessi francesi che stavano a Roma, che la serie funzionava anche molto per loro, e allora ho cominciato a incontrarne tanti proprio perché volevo sentire il loro racconto, perché io immaginavo che più o meno vivessero la stessa cosa al contrario, e invece a sorpresa io ho trovato una stragrande maggioranza dei francesi che stavano a Roma che dicevano ma che io qua sto benissimo, c'è il sole, mangio bene, costa poco, la gente è simpatia, e dico, ma questo è così, e dico, io mi manco a Roma, tu dovresti dire che no, a me Parigi... Cioè non è come benvenuti al sud. No, capito? No, io in Parigi non ci tornerai mai, qua sto molto meglio. Poi, per carità, ne ho trovati anche altri... Ma infatti io quando, ogni volta che conoscevo uno di Bruxelles, che poi è ancora più radicale perché Parigi comunque c'è un lato di, come dire, di poesia, mi dicono ah, tu ti vien dù? Ditta lì. Ditta lì? Perché sei qua? Cioè ma cosa ci fai qua? Cioè tu sei italiano e vivi qua. Cioè tutti non capivano. Comunque è stato molto interessante scoprire che poi, e ci ho fatto anche un video su questo per Repubblica dall'altro, in cui andavamo a intervistare i francesi a Roma con la convinzione che è pure loro poracci e buche a disoccupazione, a metro che funziona, erano delle interviste fatte veramente lì sul momento, non preparate, e si vede. Ma possiamo dire che l'Italia è bella di sopra di un livello di reddito e di status? Soprattutto Roma. Cioè perché il francese che vive a Roma non è che abita a Tiburte, non so come dire. No, attenzione, perché poi infatti con molte critiche mi facevano vabbè, grazie per i francesi ricchi che vivono a Piazza di Spagna. No, io ho conosciuto anche i francesi che lavoravano come me a call center a Roma, ho conosciuto i francesi che erano stati appena licenziati, ho conosciuto i francesi che non riuscivano a trovare lavoro, ho conosciuto poi i francesi che stavano bene, ricchi, sfondati, va bene, ma io ho conosciuto anche i italiani ricchi, sfondati a Parigi che se vogliono sparare. Cioè non è che bastano i soldi, non è che se c'è soldi a Parigi sei contento, no. Quindi ho conosciuto diversi livelli sociali, diciamo, e no, comunque accettavano, accettano le problematiche che riconoscono della città, non è che dicano che a Roma è tutto perfetto, ma le problematiche comunque non vanno a intaccare il complesso del benessere che provano a stare a Roma. Cosa che invece lo dice sempre, a Parigi è l'inverso, Parigi ha un sacco di caratteristiche nettamente più efficienti e migliori dell'Italia, di Roma, che però non arrivano a bilanciare il benessere del vivere lì. Che poi, mentre stai parlando, mi viene in mente la... sai le classifiche dei paesi più felici? I paesi più felici del mondo si è andato a vedere nelle statistiche che sono sempre i paesi con il più alto tasso di suicidi. Enzo spiega. Ed io mi cidi anche, perché ho scoperto che in Finlandia le carceri sono piene. Sono tutti felici e si sparano, si ammazzano. Ascoltano tutti heavy metal, tutti... Io ci sono andato ho detto madonna, questi sono felici. No, ma io avevo sentito che in realtà c'è anche proprio una diversa traduzione della parola felicità. Cioè, loro la felicità la intendono come riuscita a livello pratico. E lì, vabbè, non puoi dire niente. Hanno proprio la filosofia dell'Ojont in Scandinavia dell'accontentarsi di quello che la vita deve. Ma poi, a proposito di stereotipi... Noi siamo dei lamentosi. Esatto, in base al territorio. Più vai giù e più la gente si lamenta. È andato da fatto. Se lamentano in Italia, ci lamentiamo tutti. A Milano, a Roma, non ne parliamo. Ma è una lamentela il più di volte sterile. Cioè, è così. Qua non si può fare niente. Poi se glielo vai chiede veramente là va via in Finlandia, via Urca. Vabbè, che cosa l'one ne ha fatto un'opera. No, ma tra l'altro di questa cosa mi interessavo a farti questa domanda perché è anche, come dire, aderente alla mia esperienza. La lamentela, il mantra della lamentela italiana, siccome non bisogna scherzarci, è una roba veramente che su di me col seno di poi ha agito tantissimo. Non credo che sia un caso che nella mia vita il fatto di essere andato all'estero, io, i miei progetti online sono nati nel periodo in cui ero là. Perché io quando arrivavo là, non so se è la stessa cosa per te, mi sembrava più possibile fare le cose. Non so come dire. Arrivavo là, mi sembrava meno terrificante l'idea di fare un progetto che andasse un po' fuori da quello che era la mia sceneggiatura di vita. Dici, sei laureato alla Bocconi, devi fare il manager. No, io non volevo fare me. Mi sembrava più possibile tutto, più positivo, ma positivo non è la parola giusta, più che comunque non finirai per la strada, non so come dire. Sono nazioni che ti danno la sensazione che le cose si possono fare, perché effettivamente c'è una proliferare di progetti che da noi non c'è e soprattutto non c'è questo chiacchiericcio costante su no, non è impossibile, in Italia non si può fare niente. Quella roba lì, mi domandavo se è accaduta anche a te. Cioè, Ritals, se fosse stato in Italia, a parte il fatto che non si poteva fare per una questione proprio ontologica del progetto, però chissà. Secondo me anche lì ci sono diversi fattori, uno è, per esempio, nello specifico di Parigi, a Parigi poi brusci in pigiama e nessuno dice niente, quindi c'è proprio un atteggiamento mentale diverso, cioè non c'è il giudizio, non c'è la presa per il culo. In Italia, ma a Roma non ne parliamo, se se può, uno appena può te prende per il culo. Cioè, anche in buonariamente, ironico, però te la fa pesare. Quindi c'è intanto un'attitudine mentale diversa. Poi sono paesi che credono nel potenziale dell'individuo, nella possibilità di fare. Questo ce l'hanno, perché anche cercano di investire da questo punto di vista, la politica, l'economia, ancora va su questi... Noi abbiamo un pessimismo di fondo che è legato anche un po' a difficoltà effettive che abbiamo, economiche e tutto quanto. Quindi mettere su un progetto in Italia è più faticoso, è più difficile, sia in termini pratici, secondo me, che anche un po' emotivi. E quindi assolutamente secondo me c'è. Nel mio caso specifico no, perché vabbè, io ho sempre vissuto facendo queste cose, che potrò fare a Roma, potrò fare in Francia. Poi coincidenza ha voluto che ha funzionato proprio perché era un racconto inerente a quello che stavo vivendo e tutto. Ed era nuovo e non c'era. Però non posso dire su di me questo. Però sicuramente ho fatto cose a Parigi che non avrei mai fatto a Roma, ma anche, ripeto, andavo a fare il call center. Io l'ho fatto sia a Roma che a Parigi. Cioè a Roma me vergognavo, non lo dicevo a nessuno. Andavo così e me ne andavo. A Parigi? Sì, io faccio lavoro in un call center, sì, sì. Per esempio, l'ho sempre detto, a Parigi nessuno mi giudicava, nessun francese si permetteva di andare al call center. Cioè a 30 anni di stare al call center. Ma se a Roma, adesso è un po' cambiata in Italia perché con la crisi che è esplosa negli ultimi anni, qualsiasi lavoro è già più accettato. Ma ancora, una decina di anni fa, se io trentenne di Roma bene, io sono in Roma centro e tutto, dicevo, sono dal call center sull'atiburtino, ma si sa, voraccio, ma che va a far call center? C'è quel giudizio, oggi forse è un po' più debole, però c'è. Non lo so perché noi siamo fatti così, ci abbiamo, è mentale, ripeto, è un po' una cosa buonaria di presa in giro e un po' è legata effettivamente a difficoltà che abbiamo, per cui non è così facile mettere su un progetto sia in termini pratici che poi anche per trovare un consenso. No, ma infatti, pensa che, no, è la stessa cosa. Forse anche il fatto che appunto non ci sono i tuoi amici di sempre, i tuoi parenti che ti giudicano. Certo, ovviamente il fatto che non c'era mia madre nel giro di mille e passa chilometri mi ha dato molta più spinta e libertà, però, sì, c'è anche quel fattore, ma tu sei anche messo alle strette, cioè tu ricominci tutto, quello che ti dicevo, ricominci da zero, quindi sei un involucro nuovo, cioè lo devi riempire come vuoi. Non è un, anche farlo ad un'età come io, l'ho fatto più o meno alla tua età, a trent'anni. È un modo per ripartire figo. Ma io forse involontariamente l'ho sentito dentro di me quel bisogno di andare, ricominciare da capo, non avere nessuno attorno, permettermi di vivere anche le difficoltà che avevo a Roma, vivermene anche lì, però appunto ho quel piacere di crearsi una prospettiva nuova e poter ricominciare da zero senza che nessuno ti può giudicare, nessuno ti conosce e tutto quanto. Quello è anche legato semplicemente al fatto di uscire da una comunità, andare via proprio e andare in un posto dove ricominci a zero, dove la gente è curiosa anche solo per l'accento che hai, capito? Non sei uno dei tanti di Roma che sta lì, sei un italiano che sta lì a Parigi, quindi ti senti anche una novità, hai la possibilità di raccontarti di nuovo, qui bene o male noi con due battute capiamo che tipi siamo e finisce un po' lì. Lì, come in altri posti quando vai fuori torni un po' bambino insomma, ricominci un po' a farti conoscere e poi raccontare anche un po' te cavolate su te stesso senza nessuno te becca o io. Sì, ma infatti è un ottimo strumento di rinascita. Mi domandavo cosa ne pensavi anche del fatto che sei rientrato, come sei rientrato e come ti sei visto cambiato, quali qualità ti sei portato dietro perché sai, viaggiando un po' per l'Italia spesso noto che i progetti imprenditoriali più belli, più freschi, più creativi, più aggiornati, più cool, sono sempre gestiti da italiani che sono stati all'estero. Cioè, uno, mi ricordo, ero a Ceglie Messapica che è questo bellissimo borgo della Puglia introterra e c'era questo locale che palesemente non c'entrava un cazzo con gli altri, sembrava tipo Ibiza, cioè una roba Bali, cioè diceva che figata andiamo a bere qualcosa lì, scopri che è un ragazzo che è stato 5-6 anni a Londra, è tornato, capisce, sa il linguaggio che devi usare, come deve arredare le cose, ma quello è inevitabile. È un boost, bisogna andare fuori, ma non è un problema dell'Italia, questo vale per qualsiasi paese che quando vai fuori, conosci il mondo ragazzi, il mondo è enorme, quindi se tu rimani nel tuo paese, nella tua città, hai una visione di te stesso, della società, limitata, non c'entrava ai famosi provinciali perché non hai conoscenze che c'è fuori, quindi a prescindere di andare fuori aiuta, in più ci sono paesi che purtroppo in questa fase storica sono diciamo più evoluti in termini economici di possibilità, per cui andare fuori ti apre altri orizzonti anche da quel punto di vista. Personalmente il mio ritorno diciamo non è stato un ritorno che dici di punto bianco da Giamaica, non so, da un paese lontano torno a Roma, è tutto cambiato, io tornavo costantemente a Roma, quindi i miei rapporti con Roma comunque erano abbastanza frequenti e avevo già pensato di tornare definitivamente, quindi ero già in una mentalità che mi riportava spesso, stavo già ricominciando a lavorare spesso per l'Italia, quindi poi stai comunque a Parigi che sta un'ora e mezza di aereo, quindi non stiamo parlando di non l'ho vissuta come un oddio adesso torno chissà, cioè era tutto prestabilito, sapevo come sarebbe andata ed è andata esattamente come lo immaginavo, a parte la pandemia quella Napoli l'ho immaginata perché sono tornato proprio pochi mesi prima, però quindi diciamo da quel punto di vista non è che ho riscoperto Roma, Roma l'avevo già riscoperta, anzi io ho cominciato a conoscere veramente Roma da Parigi, perché appunto finché stavo a Roma io ero il classico romano centrico, manco romano centrico, pratico centrico che è il quartiere mio che è Ottaviano, San Pietro, insomma il Vaticano, il centro di Roma, io conoscevo quel quartiere lì, bazzicavo quelle zone là, manco sapevo che c'era dall'altra parte del Tevere, andando a Parigi, anche questo è un fattore che ti aiuta andando fuori, ho incominciato a scoprire il piacere di scoprire la città dove sei, andando a scoprire i quartieri, le zone, cose che a Roma a casa non facevo perché le davo per scontate, un po' le sai, un po' dici vabbè c'era domani, poi non c'era mai, quello svevo lì me lo sono riportato a Roma già quando stavo a Parigi, cioè quel piacere di scoprire il territorio, la cultura, la tua città e tutto quanto l'ho riscoperto, l'ho riportato anche le volte che tornavo a Roma e lì ho incominciato a innamorarmi di Roma e dell'Italia, cioè io ho incominciato a viaggiare molto per la Francia anche grazie al Rital perché andavo per gli istituti culturali italiani in tutte le città francesi, quindi ho cominciato a girare molto la Francia, io non sono mai stato un grande, nonostante abbia vissuto all'estero non sono mai stato un grande amante dei viaggi, non so, uno viaggia molto, mi stressa, io voglio stare tranquillo, voglio avere tutte le comodità, non so di quelli che partono all'ultimo, dormono per terra, cioè per me è un incubo, però insomma ho girato la Francia molto e a un certo punto questa mia non passione per il viaggio è diventata una sorta di incubo, io andavo in giro pure a Bruxelles ho venuto a Berlino, dove sono andato, non mi ricordo, insomma ho cominciato a girare ogni volta andavo soprattutto andavo a Lione, andavo a Marsiglia, sono andato a Bordeaux, sono andato a Lille, sono andato a Siense, sono tutte belle, no, palla, a me non mi piace viaggiare, che vedevo dire, la mia ragazza dell'ora, la francese, mi diceva, no ma vieni qua, è molto bello, vieni a vedere, ah, sì carino, mi dicevo, senti, sarà che a me già non mi piaceva da giovane, mo' che sto un vecchiato, non mi piace viaggiare, cioè me porti, non mi frega niente, poi una certa ho detto, senti, ma famosa un viaggio in Italia, però stavo sempre a Giappà a Francia, tu sei stata solo a Milano, era stata solo a Milano dall'altro, ho detto, vieni a questo, un cazzo di nai, grazie, il tuo famoso viaggio in Italia, anche che io stesso, è tantissimo, che ne so, Firenze, Napoli, è tantissimo che non ci vado, mi hanno fatto questo viaggio, prima tappa a Firenze, e io ci ho avuto proprio, non sciocca, la sindrome di Stendhal, proprio, cioè io sono arrivato e ho detto, ma che è sto posto, cioè è finto, io mi sono sentito male, mi sono avuto i brividi, dico ma è un posto, cioè è meraviglioso a Firenze, ma non è normale, io ce l'ho stato una volta a Firenze, classico romano, ma sì vabbè, ma Roma è più bella, no? Ci torno dopo tutti questi anni di Parigi e di Francia, a girare, non vede un cazzo, cioè arrivo a Firenze, dico, no, cioè, non è, è un plastico, sì esatto, ho avuto la sensazione, vedendola dall'altro, dico, ma non è una città, è un'opera d'arte, non è che ci vivi, cioè, ma ti gioco, stai a sentire male, e poi sono andato a Napoli, uguale, sono andato a Bologna, uguale, cioè, mi sono reso conto, vedi, non è che, sì io non sono un grande viaggiatore, però il problema è la Francia, cioè, voglio dire, ed è lì, ho sempre detto, ma ci sono città belle in Francia, per carità, soprattutto i posti di natura, bellissimi, però, quando tu arrivi col bagaglio culturale italiano, dove hai girato, sei stata a Firenze, sei stata a Venezia, sei stata a Bologna, ma sei stata pure a Torino, ma pure a Milano, in parte, sei stata a Roma e tutto. No, ma infatti, a me è capitato con Milano, che era, cioè, figurati, quindi, io tornavo, mi facevo le foto a Liberty, di Porta Venezia, che non me ne fregava un cazzo, quando abitavo qua. No, che poi quando dici, sta cosa, rischi di passare proprio quel classico italiano, o no? Ma invece no, regà, è un dato di fatto, anche il francese viene, non solo il francese, chiunque dall'estero viene, vede Firenze e sviene, stiamo parlando di cose che non trovi altrove, è un dato di fan, non è che dici, vabbè, perché noi siamo italiani, patriottici, ma di che, ma trovatemi all'estero, ma certo ci sono altre città carine, belle, ma non arrivi a quei livelli, con quella densità, in tutta Italia, non c'è un chilometro, tu adesso c'hai un bambino, mi ricordo, una bambina, mi ricordo che, anche io poi sono andato via, perché non c'è un punto, ho fatto sto figlio, dicevo, ma che, cioè, il weekend se piove, che cazzo fa, ma chi è sto qua? Dicevo, sai che comunque a Bruxelles, devi beccare il weekend, che non piove, ed è impossibile, c'è una roulette, e quindi, perché non c'è un cazzo, a distanza di tre, quattro, io penso, per vedere cose un po' interessanti, andavo in Germania, nella valle della Mosella e del Reno, ed eravamo commossi, perché vedevamo una strada, con le curve, e due vigne, di Riesling, della Spatlese, dici, ma cazzo c'è un problema, se devo fare tre ore di macchina, e mi devo saltare per la Germania, quelli da Parigi fanno tre ore, perché a Normandia, sì, a Velescogliere, ho capito, c'è una orta, sti cazzi, no, è incredibile, incredibile, non c'è un cazzo, no, ma l'Italia, cioè, qua c'è in 20 km, 30 km, ma noi in Italia prendiamo in giro Milano, che non c'è il mare, ma alla fine a quanto stai al mare, voglio dire, voglio dire, comunque se non c'è il mare, c'è i laghi, c'è la montagna, ma io a Parigi, c'è l'acqua almeno 25 gradi, e poi, sì, io ci sono andata una volta, cioè, non vedevo un metro, poi, vabbè, se l'ho stato sfigato col clima, ma dove vai? Sì, c'è un po' di campagna, ma anche lì il clima, la campagna, che c'è faccio, se sei puggioso così, e noi qui abbiamo la fortuna, che è un paese stretto, piccolo, quindi c'è il mare ovunque, ma come dicevo prima, c'è città meravigliose ovunque, ma non solo città, paesi, borghi, natura, c'è tutto, da questo punto di vista, l'Italia non è un luogo comune, è la verità, certo, non vivi solo di questo, per carità, però è una cosa che aiuta tantissimo, anch'io adesso torno, sto a Roma, cioè, uno pensa solo a Roma, ma Roma non è solo Roma, cioè, c'ho i castelli vicino, c'ho i laghi, c'ho il mare, ma c'ho Firenze a un'ora e mezza di treno, c'ho Napoli a un'ora di treno, io vado a Napoli, mangio e torno a casa, ripeto, a Parigi, sì, c'ho un'ora e mezza, c'ho il Lione, perché lì il treno va veloce, Lille, Bruxelles, sì, carine, carine, ma c'è una porta, c'è una porta, Lille, carinissima, ma è una piazza, sì, è una piazza, è Bruxelles, ho due piazze, c'è, sì, no, no, ma è così, e tra l'altro però, quello che fa un po' specie è il fatto che, però, rientrato in Italia, alla fine ti sei dato da fare, hai fatto un film, e non so che, ho fatto un figlio, pensavo, sai che si dice che le opere d'arti sono un po' come i figli, hai fatto due figli, quindi un figlio è un film, e, cioè, non so come dire, forse non potevi aspettare ancora un po' e farlo su, dove c'è più tessuto, diciamo, non ce l'avrei fatta, perché, cioè, fare un film in italiano e in Italia, non lo adoro, no, sai, perché io ho ancora una formazione, Don Kishot ti fa una pippa, non so come dire, no, il problema mio è che sono comunque italiano, e soprattutto che anche interni, autoriali, diciamo, io lavoro molto sulla scrittura, tutto ciò che faccio è sempre molto legato alla scrittura, ai dialoghi, quindi una lingua straniera, comunque non padroneggerò mai quanto la mia, e quindi non sarei mai riuscito comunque, quelle che io mi riconosco come qualità, e anche qualcun altro me riconosce, che sono appunto di scrittura, difficilmente sarei riuscito in Francia, e poi ho comunque un punto di vista sul mondo da italiano, quindi anche le storie che racconto, per quanto spero che siano il più possibile università, universali, però nascono, le mie riflessioni nascono sull'Italia. Capito, però ti posso fare mille esempi, da Ferreri, Bertolucci, c'è gente che anzi... Mi fa piacere che mi... No, lui è più un martellone, no? Bus de culo! Ma sai, Bernardo è un amico? No, però, anzi, che hanno fatto un plus del fatto che l'italiano, che... Scusa, ritorniamo, in realtà, quello che succede, non so se mi è capitato, se mi è capitato anche a te, cioè il fatto che tu, da italiano, vai in un posto, fai delle foto, inquadri delle cose, ma sia fisse, naturali, difficili, ma anche proprio di dinamiche umane, che loro non vedono più. Cioè, non è detto che lo sguardo dello straniero possa essere... No, assolutamente. Magari gli fai vedere delle robe che loro non hanno visto. Ma per esempio, con Rital, molti francesi ci seguivano, perché c'era un punto di vista che non conoscevano, tanti si sono divertiti, tanti si sono cazzati, però, certo, però era un punto di vista italiano, ripeto. Quindi, sì, su quella strada si poteva percorrere, secondo me, per esempio, un film di Rital, ci abbiamo lavorato per tanto tempo, e poteva parlare un po' a tutti e due i pubblici. Diciamo, però, se io mi metto a scrivere un'idea originale, mi viene subito, comunque, da un punto di vista italiano, ma comunque, soprattutto, mi viene come il film che ho fatto, che vedrete, spero, è un film volutamente, provo, provocatoriamente, dialogato costantemente. Sono solo dialoghi per il 90% del film. È una cosa che in francese, per quanto ci sono anche dialoghi in francese, però, non sarei stato in grado di mettere su, non ho quella padronanza, quindi, anche quando scrivo Rital, e ci sono diverse situazioni in francese, vabbè, quelle nostre, da italiani che parlano in francese, le scrivo io, ma quando c'erano dei francesi che parlavano, io buttavo giù il canovaccio. Poi, all'attore di turno francese, dicevo, ovviamente rendilo più francese, perché io lo scrivo al francese che conosco io. Quindi, quando tu lavori molto sui dialoghi, hai difficoltà se devi scrivere in una lingua straniera. E, l'ho già detto nella sigla, perché c'è una sigla in cui ti presento. Io la registro prima che arrivi l'ospite, lo dico per chi ci ascolta. Hai raccolto più di 100k, come diciamo, a noi a Milano diciamo così, 100k. Fa più figo. Esatto, lo dico così per autonia. Dalla tua community, è una cifra enorme, perché vedendo i tuoi numeri, che sono grossi, però vuol dire che veramente ti hanno supportato in tantissimi. Quanto è stata la donazione media? Non si può sapere. No, è complicatissimo dirtelo, perché hanno partecipato in 3500, e c'è chi ha messo un euro, c'è chi ne ha messi mille, quindi hai veramente una forbice. Ovviamente, diciamo, c'erano le varie ricompense, diciamo, quella che ha avuto più sostenitore è quella da 10 euro, che era, semplicemente avrai il link gratuito quando il film sarà disponibile online, a quelli che mi chiedono, ma io quando vedo online, quando sarà disponibile online, però non è disponibile online. E quindi diciamo, la fetta più grande ha messo 10 euro, però ce ne sono tantissimi che hanno messo più di 100 euro, fino ad arrivare appunto a 500 e 1000 euro. Questa è la battaglia che io porto avanti da tempo, anche con le produzioni, distribuzioni cinematografiche, che mi dicono, sai voi del web, cioè i numeri che fate sul web, non sono quelli che poi portate fuori dal web. Io ho detto a me, a battaglia portate da sempre, i numeri del web sono fasulli, sono pompati, nel senso che c'è un sacco di pubblico occasionale, che non gliene frega niente, che soprattutto la stragrande maggioranza dei creatori del web, insomma, seguiti poi dai follower, creano un prodotto che difficilmente porta nel chi li segue un interesse nel vederli al di fuori di quel prodotto lì, capito? Perché più delle volte, e non c'è niente di male, sono prodotti di facile intrattenimento, quasi di compagnia, quindi puoi pensare che quello lì di oh, faccio il film, ma a me che ti seguono non mi frega niente vieni a vedere il tuo film, perché non mi hai mai dato qualcosa che mi ha potuto interessare da quel punto di vista, capito? Un po' come se io... È un po' come se, è tipo la Gialappas, no? Oppure Capatonda, ma c'è Capatonda, che funzionano, e poi fanno il film al bottiglino. E io sono pure meglio rispetto a quelli del web. Beh, anche il milanese imbruttito, che salutiamo. Nel senso sono pillole che si consumano così, usa e getta, non per forza in senso negativo, però sono quelle cose, guardi al bagno, così in due minuti, ma da lì a pensare vado a pagare un biglietto del cinema a spendere dieci euro e stare due ore seduto a vedere... Cioè, magari... Non hai quella spinta, ma non c'è niente di male, perché quel prodotto non chiama quell'altro prodotto. Io ho sempre detto, chi mi segue a me, quelli che mi seguono saranno di meno, però sanno che io ho sempre voluto fare quello, il cinema, e sanno e riconoscono che in quello che ho fatto spesso ci ho messo delle cose di cinema, o parlando di cinema, o facendo comunque, per esempio, Rital, rispetto a tutte queste webserie, aveva un percorso narrativo che ti porta più vicino al cinema. Non lo trovi nelle altre webserie queste di intrattenimento, proprio perché a me piaceva raccontare dei personaggi, lavorarci sulla finzione, costruire un percorso. Sono tutte cose che non trovi sul web. Quindi chi mi segue, chi mi ha sempre seguito, gli piace quella cosa lì e capisce che forse io avrei bisogno di andare da un'altra parte, ovvero al cinema. Mentre quegli altri, il più delle volte, nessuno sente l'esigenza di vederli al cinema. E io ho sempre cercato di dirlo alle produzioni e distribuzioni che non erano convinte, nel senso dicendo, è vero che ho numeri molto più bassi, è andato da fatto, ma ho un numero molto più basso di follower, proprio perché propongo un prodotto che è meno adatto al web, paradossalmente, capito? però quelli che mi seguono non vedono l'ora di vedermi al cinema, quindi almeno sai che quelli ce vengono, saranno pochi ma ce vengono, quell'altro non lo sai, ce ne hanno un milione, ma poi magari te vengono, come è successo, se ne vengono un per cento. E la dimostrazione dell'ennesima è stato il crowdfunding. Io ho parlato con tanti amici che come me hanno canali YouTube e cose che avevano già fatto crowdfunding simili per cortometraggi, per altre operazioni e avevano in seguito dieci volte il mio e mi dicevano guarda, noi abbiamo faticato a raggiungere trentamila, quarantamila euro pompando, poi facendo cose, Twitch, queste cose qua, quindi quando io gli parlavo io vorrei fare il film vorrei raggiungere come minimo almeno trentamila euro con i numeri che c'hai non lo so, forse diecimila, quindicimila euro io ce provo ma dentro di me non sapevo no, non avrei mai immaginato che era centomila e passa euro, centomila, centok, perché è stato veramente tanto però è stata la conferma e la conferma ce l'ho anche adesso che il film esce in una sola sala a Roma ma abbiamo già riempito una settimana con quattro spettacoli al giorno che se vai comunque a fan conteggio diventa una cifra interessante in termini se fosse la programmazione fosse stata come speravo io nazionale vatti a fare un conto se andavi uscivi a Milano uscivi a Napoli uscivi a Torino come fanno tutti i film quello che chiedevo io non vi chiedo non mi date centocinquanta sale non mi interessa andatemi 10 15 in tutta Italia fatemi uscire una settimana vedrete fare un numero più alti di tutti i film nessuno ci ha creduto e me lo so fatto da solo però anche lì ho avuto la conferma che la gente vuole venire a vedere film sono interessati hanno preso il biglietto in anteprima chi è che va in prevendita al cinema ma nessuno a me l'hanno imposto mi hanno detto vuoi le sale c'è devi garantire che viene la gente quindi noi te diamo 4 spettacoli se li riempi te ne diamo 8 se li riempi te ne diamo 10 e siamo arrivati che ce ne abbiamo non lo so più 4 per 7 28 28 ma hai beccato quello giusto ma l'ho capito e ad ora siamo a 28 speriamo anche di continuare però per dirti quindi c'è stata una partecipazione incredibile non lo sarei aspettato a questo livello sinceramente quando vedevo che continuava a salire il coso ho detto ma io mi invio sti sordi il film non lo faccio che strategia hai usato e non ho fatto nulla nel senso questa è l'ennesima dimostrazione non ho fatto campagna cosa rompercazzo tutti i giorni ho fatto i video su youtube passati anche su instagram e su facebook le storie qua e là oggi non ho fatto non è che sono andato ho chiesto amici giratelo pure voi datemi una mano nessuno mi ha aiutato nel momento in cui è uscito il video iniziale in cui ho detto nemmeno il video ho messo la lugandina su instagram ho fatto il post ragazzi il primo giorno 15.000 euro così poi era tutto calcolato avevo pensato dopo due settimane faccio un video e spiego meglio il progetto un'altra 15.000 poi rifaccio un altro video più in là un'altra 15.000 però questo ovviamente è il frutto salute è il frutto di quanti anni di lavoro su youtube ma io oramai quasi una decina d'anni che faccio questo quanti video pubblicati non lo sappiamo vabbè ritalza sono più di 100 sicuro poi a romano fatti di meno perché magari uno dice ah beh simpatico e bravo però si è fatto anche il culo sì ma soprattutto mi sono costruito una fanbase ripeto piccola ma convinta che mi segue che crede nei miei progetti e non l'ho mai tradita capito in proporzione tu hai incassato più dello youtuber americano che conoscerai chris stackman in realtà non so io non conosco nulla del web no perché lui è quello che fa le recensioni americano più conosciuto che è un ragazzo giovane che ha fatto anche lui un crowdfunding e ha raccorto un milione e mezzo di dollari però lui ha due milioni di follower fai video da più di dieci anni pure lui però se raccoglievo pure un milione e mezzo però in proporzione hai fatto di più tu sì è anche vero bisogna stare attenti lo dico contro me stesso però sai le proporzioni hanno senza finanziare non è detto che se avessi avuto un milione di follower avrei ottenuto non è sempre così forse è proprio perché ce n'hai pochi che però quelli sono molto fedeli io so sempre l'idea che se ampli troppo a un certo punto è inevitabile che dentro a quei numeri lì c'è tanta gente che ripete è occasionale è difficile raggiungere quelle cifre così alte di gente veramente che è disposta a buttare soldi perché tu possa fare una cosa e questo è interessante perché chi si vuole dare da fare per fare il creator come ci hanno definito ragazzi oggi ci ha scritto youtube eh bene sì youtube perché vede che i nostri shorts su youtube hanno seguito e ci ha chiesto di andare a fare una riunione da loro vediamo è interessante perché quello che un po' frustra le persone che vogliono avvicinarsi al mondo dei social media o comunque dei creator in genere sono i numeri invece tu hai dimostrato che c'è un peso specifico io non ho mai dato cioè c'è una metrica che non è banalmente quella c'è qualcos'altro dipende cosa ambisci ci sono generazioni che sono nate adesso che veramente puntano a avere visibilità sul web dipende qual è io ci sono arrivato sul web che ero vecchio cioè io mi sono formato che il web non esisteva io giravo i cortometraggi volevo fare film cinema avevo vent'anni e internet è appena nato nessuno poteva immaginare quello che è successo quindi io ho iniziato a fare il web che ero veramente vecchio cioè Ritaldo iniziava a farlo avevo ora 35-34 anni non ero giovane quindi non l'ho mai visto come il punto d'arrivo quello dove volevo sfondare cioè l'ho vista come anzi un ripiego rispetto a quello che volevo fare io e ho cercato di viverlo il più possibile come un divertimento senza nessun tipo di corsa tant'è che io lo dico magari ho sbagliato ma quando esplose Ritaldo era ancora il periodo veramente che andavano molto le webserie e c'era un'attenzione mediatica anche delle agenzie delle produzioni che subito ti chiamavano e noi fummo chiamati subito anche dalle agenzie più grosse che diciamo gestiscono tutti questi qui però non riuscimmo ad accettare di lavorare insieme perché ci proponevano una tipologia di lavoro che io non cioè ma avrebbero portato sicuramente molta più visibilità molti più soldi tipo fammi un esempio io sai per esempio Ritaldo aveva due anime aveva però con Air France qualche market sì no nessun problema a fare sponsor quello a me se mi paghi te lo faccio se mi lasci la libertà di farlo come voglio io non è che so la puzza tutto al naso assolutamente non è quello il problema la differenza è che queste agenzie ti prendevano e ti facciano un pacchetto in cui tu tu dovevi rispettare tempistiche modalità di video puoi lavorare esatto ma soprattutto quelle cose che a me piacevano di meno per esempio stavo dicendo Ritaldo aveva due anime aveva la stagione che io chiamo narrativa in cui c'erano episodi che potono durare anche 25 minuti che erano dei piccoli film con la storia che andava avanti e tutto e poi facevamo questi extra li chiamavamo extra che erano quelli che attiravano il pubblico che erano quelli dei confronti Roma Parigia cucina che erano quelli che facevano milioni di visualizzazioni arrivava gente nuova io poi continuavo i miei video che piacevano a me molti dei nuovi mollavano non mi frega niente ma altri invece continuavano a seguirci tutti quelli che mi contattavano ancora oggi lo facevano sempre solo per fare erano interessati solo a quella tipologia di prodotto che erano quelle pillole di 3-4 minuti in cui c'erano i confronti Roma-Parigi che io mi divertivo a farli mi piacevano però non volevo rimanere a fare solo quello cioè io volevo continuare a raccontare la storia dei due personaggi fare dei video con la libertà assoluta di stare a raccontare una storia di 20 minuti senza e quindi ogni volta mi chiamavano questi era sì ok allora quindi facciamo che devi pubblicare ogni mese due tre video di confronto ma io quelli ne pubblico uno quando mi va a mese e mi hanno un'idea che mi piace non deve essere e ma così noi ti facciamo crescere e comincia a avere Emilio ma io ma che me frega mi fai crescere non usare l'accento milanese quando devi fare cose brutte istintive cose creative romani cose di lavoro non a caso mi chiamavano da Milano infatti è per quello che lo dico perché immaginavo però quindi questo ovviamente ha fatto sì che io ho guadagnato molto di meno di tanti altri ho avuto molto meno di follower ma allo stesso tempo quello dicevo prima mi sono costruito un seguito di gente che che sono veri fan come possiamo dire i fan di una o no i fan finti cioè che ti mettono i like è gente che veramente vengono dalla Norvegia sul set perché pagando 100 euro al crowdfunding puoi stare una giornata sul set io mi sono ritrovato gente dal Veneto dall'Austria che sono venuti per stare nemmeno a Giornaporelli alla fine un'oretta sul set vedo gente che compra il biglietto per il film pur sapendo di non poterci venire abbiamo detto che abbiamo chiamato il biglietto sospeso come il caffè sospeso a Napoli c'è tanta gente ha detto io voglio contribuire voglio che la sala esaurisca i posti purtroppo non posso venire perché sto a Bruxelles ti compro 10 biglietti e tu li puoi regalare a qualcuno questa militanza secondo te da dove è originata cioè perché perché un po' parlo da diciamo formatore di business è in realtà un punto di arrivo è il numero uno cioè è l'obiettivo numero uno per tutte le aziende non avere clienti ma avere fan secondo te come sei riuscito a ottenerla questa cosa perché ho una personalità artistica molto decisa quindi se mi segui è proprio perché ti appassioni non è una cosa usa e getta come dicevo prima nel bene e nel male ma non vuol dire che sono bravo però sono uno che fa quando fa le cose le fa le fa in una maniera che pretende dall'altra parte un'attenzione una capacità di analisi di seguito che fa sì che in qualche modo c'è una sorta di esclusione di chi vuole una cosa così poi ho anche un seguito di quel tipo c'è molta gente che per esempio non mi conosce solo per quei video lì ma è un numero più limitato credo che sia in qualche modo sono un rompipalle voglio dire il mio prodotto è un po' una rottura di palle quindi se tu lo segui vuol dire che ti piace veramente hai colto che c'è del potenziale di un certo tipo che ti appassiona davvero cioè non puoi essere un mio uno che mi segue assiduamente ma così cioè perché mi vedo intanto sono pochissimi se mi segui è perché hai capito e come ci capita a tutti noi io penso anche al cinema ma ci sono quegli autori che proprio vai anche al di là del semplice mi piace quello che fa c'è proprio qualcosa in più perché è una tipologia di prodotto che attira è un po' è un rischio perché ovviamente crei un elite diciamo una nicchia infatti sono per il web io sono uno di nicchia però io preferisco così sarà ripeto l'età la formazione non è che l'ho fatto studiandolo è venuto spontaneo cioè io per esempio una cosa fondamentale per il web è la ripetizione cioè una volta hai trovato una cosa che funziona la devi ripetere fino alla morte perché la gente ti conosce per quello e io sono uno dei pochi sul web che invece ha sempre cercato di deludere le attese cioè di sorprenderti questa è una cosa sul web ti porta a perdere velocissimamente tantissimi follower ma allo stesso tempo come al solito come dicevo a farti un diciamo una schiera di veri fan che stanno lì e ti seguono io sono diventato famoso facendo Italia-Francia poi di colpo ho cominciato a parlare di cinema italiano poi ho cominciato a parlare della critica poi ho cominciato a parlare delle bellezze della città poi ho fatto il video di 25 minuti poi quello di 2 minuti poi ho fatto il rumaraccio ignorante poi ho fatto l'intellettuale che si mette a fare però la gente ha continuato a seguirmi perché ha capito la cifra che c'è dietro in generale che mi permette di poter parlare un po' di tutto però ripeto poi è un pubblico di nicchia non è che poi c'è i 200 milioni di follower che qualsiasi cazzata fai ti mette nei like e il film ce l'avevi già scritto quando hai fatto la campagna era tutto presentato o l'hai scritto mentre dopo eccetera diciamo che io in questi anni ho lavorato con molte distribuzioni e produzioni grosse cercando sempre di trovare la quadra per fare qualcosa insieme quindi anche perché in ambito cinematografico a me piace tutto io li posso fare anche il prodotto un po' più commerciale come quello più autoriale sempre per lo stesso principio basta che c'è sempre la mia cifra dentro quindi diciamo in questo percorso è durato anni con tutte queste produzioni in cui non siamo arrivati al dunque nemmeno riguardo a Rital che per molto tempo sembrava potesse diventare un film poi una serie tv invece diventavano niente diciamo mentalmente mi sono sempre preparato l'idea che avendo una certa età mi sono detto io a un certo punto non posso stare presso a questi fino a 90 anni quindi io non avendo essendomi costruito insomma un po' di visibilità voglio provare a sfruttare il fatto di poter lanciare una campagna crowdfunding e girarmi un mio piccolo film d'altronde so dieci anni che giro cose indipendenti quindi so un po' come muovermi e quindi avevo sempre questa carta che attendevo di tirar fuori ovviamente per un progetto del genere avevo bisogno di una storia che potessi girare con un budget che io l'ho detto nell'ultimo video perché la gente giustamente non lo sa ma i film si girano con milioni di euro perché la gente dice oh 100.000 euro poi girava no in realtà in realtà guarda oggi prima che arrivasti tu abbiamo dibattuto qua perché avevamo punti di vista differenti tipo il mio era io con 100.000 euro francamente non saprei neanche codonizia e io gli ho citato un paio di film di fantascienza fantascienza psicologica fighissimi fatti con 6.000 e con 50.000 dollari tipo citali di primer e coherence che se parli con gli appassionati di fantascienza è quello tutto coerente sì esatto è ambientato esattamente è ambientato in una casa con queste persone che di colpo fanno sta scoperta sono persone che parlano però infatti è un film molto simile esatto e gli ho detto proprio questo con quel budget puoi fare una cosa del genere esatto non puoi fare un film normale quello è un film che diciamo anche se odio chi lo dice però teatrale nel senso cioè quasi un'unica location non so quei 10 personaggi quanti so e te la capi così infatti io poi coincidenza vuole io ho sempre ragionato così sui progetti cioè quanti soldi ho che cosa posso tirare fuori con questi soldi e quindi sin da quando ho iniziato a fare i cortometraggi prima del web le prime cose che facevano erano io da solo a casa che parlo con mia madre perché quello c'avevo e quindi mi sono costruito una cifra anche mia perché mi porta ad amare molto però anche da spettatore storie che si svolgono in un ambiente unico in un tempo limitato una serata una giornata con pochi personaggi quindi quello da un lato mi ha sempre aiutato produttivamente perché so le cose un po' più facili a girare e dall'altro però anche diciamo creativamente mi sono allenato molto su questi prodotti ma anche Rital molte cose si svolgevano con me e Federico che era il coprotagonista a casa a cazzeggiare quindi voglio dire e quindi proprio per un'idea di un crowdfunding avevo già sviluppato pensato a una potenziale storia da sviluppare con queste coordinate diciamo e avevo anche buttato giù proprio l'idea di base diciamo di questo di questo film che visto che l'ho coprodotto con un mio amico Simone Bracci che mi ha dato una mano a mettere sul progetto diciamo lui voleva comunque provare a farlo leggere alle produzioni io non dicevo ma non fanno i film miei normali che faccio per loro se mettono a fare un film così particolare che ho pensato da fare da solo ma fanno un tentativo abbiamo passato qualche mese a far leggere questa sorta di pitch come dicono oggi alle produzioni ovviamente nessuna tutte te dicono interessante sviluppala e quindi diciamo poi io lavoro in una maniera un po' particolare in termini di scrittura cioè normalmente per scrivere uno comincia a buttare giù quando c'è una mezza idea butta giù comincia a scrivere e vede che esce fuori magari anche con più persone si scrive in due in tre io non lo so fare cioè io purtroppo ho bisogno di avere tutto il film intero in testa quando il film io lo vedo è tutto lo scrivo quindi paradossalmente so velocissimo a scrivere perché una volta c'è una testa due giornate e te lo scrivo invece di solito la gente ci mette mesi e mesi che stanno là buttano giù riscrivono riscrivono quindi diciamo io avevo questa idea che ho sviluppato sempre di più quando ho sentito che c'era il film anche se mi mancava ancora qualcosa ma nella mia testa il film c'era ho detto ok lanciamo il crowdfunding quindi eravamo a settembre-ottobre abbiamo lanciato il crowdfunding a novembre ma non ho scritto la sceneggiatura perché ho detto fammi vedere intanto come fare il crowdfunding perché se mi metto a scrivere poi la cimoliamo la cimoliamo 5.000 euro anche che so anni che scrivo a vuoto grazie alle produzioni e quando ho visto che la cosa andava proprio alla fine del crowdfunding quindi parliamo di fine dicembre avevamo già stabilito le riprese a marzo perché abbiamo già fermato tutto prima e c'era la sceneggiatura quindi mancavano due mesi e mezzo e io mi ricordo avevo già individuato gli attori e tutto e me gli è Marco Pione e dico muo' arriva muo' arriva stavo un attimo a sistemare invece ancora dopo iniziare però l'ho detto anche al pubblico mi ricordo facendo le storie su Instagram e mi dicevo ragazzi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura e la sceneggiatura però come dicevo prima sono molto rapido l'ho scritta nel giro un giro di pochi giorni ma manca sta lì dieci ore al giorno una mezz'oretta al giorno due settimane l'ho scritta è una piccola sceneggiatura un film piccolo dura un'ora un quarto tutto quanto e quindi non mi ricordo più qual era la domanda non c'era una domanda stavamo così dialogando no mi domando se come dire questo tuo rifiuto o il rifiuto che hai ricevuto o comunque questa tua voglio dire senso di arrendevolezza totale nell'idea di poter fare un percorso standard nell'industria cinematografica possa essere come dire un non so ha un sapore di arrendevolezza non so come dire come dire siccome non mi vogliono ascoltare me lo faccio da solo e quella roba lì mi domando se alle volte essendo il cinema un'opera come dire una forma di linguaggio corale dove cioè non è come scrivere un libro non so come dire il libro te lo scrive a parte che ora ma anche i libri se li scrivono tra 4 tra editor contro editor tu che l'hai scritto lo sai però il cinema ancora di più non so come dire è come se necessitasse di avere dietro un'industria non sempre però lo dico perché anche come te sono appassionato di cinema i registi che amo quando hanno lavorato da soli o in maniera indipendente hanno fatto sempre film meno belli di quando hanno lavorato per l'industria tu guarda citiamo sempre David Lynch tu guardi Land Empire se l'hai fatto da solo ma non sarà mai all'altezza di nessun'altra cosa che puoi aver fatto per l'industria poi da lì ovvio che se ti danno il final cut ti impongono gli attori ti modificano la sceneggiatura ti levano il budget per fare ovvio che lì però non so mi domando se invece non sia più rispettoso per la tua idea per il tuo talento l'idea di investire di più di 100 mila euro cioè dire io aspetto ancora un anno due anni combatto perché ci credo e farò un film con 3-4 milioni 5 milioni sì però ti dico intanto una bella questione richiederebbe molto tempo intanto partiamo da un presupposto che quel discorso che il cinema è un'industria che ha 3 mila passaggi è sempre stato così è vero ed è anche giusto e tutti i capolavori che amiamo del cinema sono passati per quelle migliaia di persone che hanno lavorato sul film però quando il sistema funzionava oggi il sistema non funziona più quindi entrare in quei labirinti per poi trovarsi tutti fin da merda o comunque una grande maggioranza dei fin di merda c'è qualcosa che non funziona e diciamo io questa cosa l'ho notata lavorando all'interno mi sono reso conto che non è più quella questione normale che devi giustamente mettere d'accordo più teste no è che tu devi parlare con gente che non sa quello che sta facendo cioè vivono fuori dal mondo e non lo dico io lo dicono i risultati lo dice il fatto che è un'industria che sta morendo quindi poteva essere affascinante un tempo mettersi in contatto con tutti questi reparti oggi non è per niente affascinato affascinante ed è molto frustrante perché ripeto quello che mi ha spinto proprio a farlo da solo non è tanto che non mi fanno fare film a me è che vedo che film fanno capito e vedo che quando io propongo mi fanno fare quel percorso che mi porterebbe a fare quei film lì e io non ne voglio fare quindi questo è un punto di vista poi c'è un'altra questione io lavoro da solo da tempo quasi sempre lavorato da solo quindi faccio fatica a mettermi a dover convincere le persone a dover far capire purtroppo sei un autarchico facendo una citazione diciamo l'aver dovuto sempre fare le cose da solo perché devo essere sincero non ho mai trovato nessuno che credesse nelle mie idee io ho detto sempre se Rital avessi proposto a qualche produzione non mi avrebbero mai fatto fa tant'è che il film non me l'hanno fatto fa la web serie ma sono dovuta fatta da solo e quindi avendo sempre lavorato così inevitabilmente faccio fatica a mettere dentro altra gente e mette bucca l'ultima questione è che il film che ho fatto è un film che andava fatto così perché è stato pensato così tutti mi dicono ma se avessi avuto più budget avrei fatto un altro film non avrei fatto questo questo è un film che intanto ti dico nessun produttore italiano avrebbe mai accettato quali sono le cose che te lo fanno dire te lo dico perché già perché poi il film l'ho fatto vedere le distribuzioni una volta finito e anche molti l'hanno anche apprezzato ma hanno detto tutti ma questo è un film che nessuno vorrà mai vedere è un film che non ha nessuna possibilità di essere né venduto su una piattaforma né che qualcuno voglia vedere il cinema ma perché non strizza l'occhio nessun trend no ma il trend non esiste perché è un film che chiede chiede uno sforzo allo spettatore e io so dell'idea che gli spettatori non vedano l'ora di vedere un film che chieda una partecipazione che non è che te siedi e vedi la cosetta e te ne vai come puoi vederla sul web io è stata la mia scommessa io sono sicuro che come sul web non tutti quelli che lo vedranno se ne innamoreranno ma ci sarà una buona fetta di gente che se ne innamorerà è quello su quello che devi puntare no sul piacere a tutti perché oggi come oggi è difficilissimo piacere a tutti e loro tentano di fare pellicole che non dicono niente nella speranza che accontentino tutti invece non accontentano nessuno questo è un film che chiede una partecipazione chiede un'attenzione nella visione e chiede di riempire anche certi vuoti che il film ti lascia ce ne saranno tanti che diranno che palla non ho capito un cazzo ce ne saranno tanti altri che invece sono sicuro che sta già succedendo perché io ho avuto dei ritorni dalle distribuzioni o da gente che per un motivo o per un altro l'ha visto in anteprima che mi sono messo le mani nei capelli perché poi tu fai una cosa sempre convinto che hai fatto il capolavoro ah fai vedere il primo e tu dici ma che cagata che hai fatto oddio santo poi per fortuna ancora presto lo stanno vedendo anche i critici insomma stanno arrivando le prime recensioni che sono estremamente positive questo non vuol di niente perché può piacere può non piacere il problema è che fino a due settimane fa sembra non dovesse piacere a nessuno per ora quelli che lo stanno vedendo fuori dal settore e che lo vedono sedendosi senza dover dir per forza se va bene o no ma semplicemente da spettatori anche in quanto critici per ora sta piacendo questa è un'altra battaglia che io ho cercato dei portavanti voi continuate a vedere questo film mettendovi su un piedistallo dicendo ah vediamo con quei soldi che hai fatto che hai fatto no però qua così no siediti come se tu non sapessi niente e goditi il film invece c'è questo atteggiamento che ho subito in questi tre mesi in cui ho fatto vedere il film in giro e dici il bello il cinema è una cosa partecipata volevo ammazzarli tutti perché io oramai ho un'esperienza e conosco il cinema e percepivo che c'era un modo di vedere il film che era sbagliato poi il film non te ne piace per forza non ti sto dicendo il film è bellissimo non ha difetto però capisci che ci sono delle questioni simboliche mi ricordo quando sono stato al festival del cinema di Rotterdam c'era Davide Manuli non so se conosci che è un regista diciamo underground italiano che io adoro e lui sbroccò completamente allora innanzitutto sbroccò perché l'audio non era secondo lui a livello giusto ma poi disse vedete quello che conta oggi nel mondo del cinema non è questo che è la locandina non è il titolo sono i loghini che ci sono sotto sono d'accordo nel senso che purtroppo sempre di più sta diventando come dire un prodotto capitalistico con le logiche globalizzate eccetera però come fai cioè è come dire non so quella lì fa la porno diva e poi viene e parla di di Kant però comunque se tu sai che è una porno diva avrà sempre dentro di te un portato della sua vita precedente misterando della porno diva no ma per dire cioè è ovvio che una persona che va a vedere il tuo film e dice questo è stato fatto con 100.000 euro non potrà mai dimenticarsi che è stato fatto con 100.000 euro però tutti quelli che ad oggi l'hanno visto seduti in sala nessuno legge le recensioni nessuno fa riferimento al budget perché ma meno male e mi hanno quelli che l'hanno visto in sala mi hanno detto io se tu non mai si detto non avrei mai immaginato di aver girato 100.000 euro che trucchi hai usato per poter girare un film con 100.000 euro che non sembrasse un film da 100.000 euro ma quello che dico sempre al di là della scrittura che non aveva location ma anche tecnicamente come hai fatto la questione è dove tu catturi lo sguardo dello spettatore capito se io ti catturo con la storia ti faccio seguire quello che dicono i personaggi cosa sta succedendo se ti faccio il taglio che ti aiuta a entrare nella cosa tu non ci fai più questo io l'ho imparato con tutta sti anni ripeto di cinema di prodotti indipendenti e con la conoscenza che ho del cinema perché ce l'ho io se lo so sono anche laureato al Dams sono cresciuto col cinema oggi purtroppo una delle problematiche del cinema e non essendoci più chiamiamo i cinefili è che è diventato tutto molto immagine oggi anche i giovani chi è appassionato di cinema fa fatica a capire che cos'è la regia cioè pensano che la regia sia oh hai visto la inquadratura hai visto guardate le luci guardate le cose no ragazzi la regia era anche che altro è l'intensità della scena è capire come farti entrare in un contesto emotivo e questo non è per forza con l'effetto speciale o col piano sequenza o con le luci fighe o rallenti con la musica oggi si fa fatica a farlo capire anche ai giovani quello che ho fatto io che è quello che poi piace a me anche da spettatore è cercare di toglierti il respiro in termini proprio di quello che sta succedendo cioè in teoria io spero e per fortuna quelli che ad oggi lo stanno vedendo che tu sei completamente preso da quello che sta succedendo e non ci fai minimamente caso al fatto che è stato girato con pochi soldi perché il taglio delle inquadrature il taglio del montaggio le battute dette sono tutte fatte in funzione a che tu stia lì seguendo la storia senza notare il pacchetto che poi ragazzi il cinema italiano il problema infatti ad alcune distribuzioni ho risposto così che mi dicevano è molto carino però si vede che è girato 100 mila euro io rispondevo ma il problema non è che il mio si vede che è girato 100 mila euro il problema non si vede che voi li girate con milioni di euro perché i film italiani dove stanno questi milioni di euro dove stanno forse gli attori molto vabbè ma l'attore non è che ti cambia la qualità del prodotto inteso da quel punto di vista quindi il problema eventualmente non è che il mio si vede che è con 100 mila euro il problema è che il tuo non si vede che è con 3, 5, 10, 20 milioni di euro e comunque io sono ripeto è stata la mia battaglia in questi mesi in cui continuavano a vederlo gli addetti ai lavori se lo vedevano sul computer le cose io dicevo voi avete una visione mi dispiace non voglio ripeto non è che mi devi dire che il film è bello non me ne frega niente ma io noto che tu stai sottolineando cose che tu noti solo perché ti sei messo in una posizione di non sto vedendo un film sto giudicando cioè sto correggendo il tema del mio alunno capito è come il professore forse segnala qualcosa se invece lo vedi come qualsiasi film che vedi al cinema lo vedrete ma Milano non c'è ancora spero di portarlo e credo che lo porterò voglio dire abbiamo sfondato la sala mi piace portarlo mi ricorda Nanni Moretti che lui raccontava sempre che pilava le pizze e girava l'Europa col treno portando il suo film si purtroppo rifallo tu giri con la chiave addirittura falso movimento di Wim Wenders che lui andava in giro proprio on the road a portare il cinema il tempo era così e tornare a questo potrebbe essere una soluzione per ridare vita al cinema ma secondo me sai che sì cioè nel senso ho letto un articolo sul post che parlava ma perché gli scrittori anche noti girano l'Italia per presentare il libro magari che cazzo ne so con tutto rispetto a ditemi un paesino a no che poi dopo a un barotto e dicono ma perché davanti a 25 persone e questo articolo proprio raccontava del fatto che ecco cazzo tu quelle 25 persone una volta che ti incontrano dal vivo e vedono la persona oltre l'opera installano un rapporto che avranno tutta la vita con te e quindi hai in questo modo gradualmente una fanbase sempre più strutturata facciamolo anche coi film beh pensa bello con l'alto parlante è arrivato il cinematografo non farlo il film non esce lo porti tu purtroppo io sono un po' ambizioso a te non piace viaggiare in Italia non mi piace viaggiare no non mi piace troppo rientrare infatti molti mi dicono perché io l'ho venduto come il primo film italiano che esce senza produzione né distribuzione in sala e molti mi dicono ma non è la prima volta ci sono altri film che vanno in giro nel cinema sì ma la differenza è che io proprio per dare un segnale al sistema ma ho voluto fare tra virgolette un'uscita classica perché se io avessi voluto portare semplicemente il film in giro o due spettacoli che ne so a Milano due a Bergamo o facevo non ci vuole niente lo fanno in tanti voglio dire trovare una sala che te fa due proiezioni lo fai io non lo voglio fare almeno spero di non doverlo fare nel senso che questo lo può fare chiunque io voglio dare un segnale facendo una distribuzione classica anche se una sala sola certo io ho preteso che fosse una multisala perché il cinema lux di Roma è una multisala moderna classica tutti i blockbuster e i pop corn non è il cinema del sé che manda queste cose ho preteso quello e ho preteso ma avrei voluto pretendere una settimana di programmazione come i film che esce il giovedì fino al mercoledì poi dopo si vede loro mi hanno detto molto bello loro mi hanno detto noi non te la possiamo dare subito se tu riempi la sala noi te la diamo e siamo riusciti a farlo proprio ieri mi hanno aperto le sale gli spettacoli del giovedì e del mercoledì successivo per cui io ho una distribuzione classica e questo non è mai successo cioè che senza distribuzione autonomamente in forma indipendente tu vai in una multisala vera in città e hai una programmazione come gli altri quattro spettacoli al giorno nella sala vera e tutto quanto mi piacerebbe ripetere la stessa operazione anche in altre città sempre passando per una distribuzione pseudo classica capito? perché se io volessi fare una proiezione a Milano ma ci metto un secondo chiamo un cinema ovvio mi danno una sala perché stanno pagando paghi, noleggi e la fai l'avrei potuto fare anche a Roma e tanti me l'hanno offerto vai lei ho noleggiate la sala io ho detto no voi mi dovete dare una sala con gli accordi io ho accordi con la sala come grossomodo ci hanno distribuzioni non è che ho noleggiato e questo è un fenomeno nuovo e per me era fondamentale perché se no agli occhi del sistema è il solido che se fare il circuitino col suo filmetto va là va là bussare porta il proiezionista no io voglio fare una distribuzione classica parlando con i miei amici interessati al cinema tra l'altro io anche conosco vari critici eccetera e in realtà mi hanno detto e loro che vedono più film di me non c'è mai stato un momento con un cinema così bello e così tanti film belli chi di lavoro gira per festival eccetera il problema è che non escono non so d'accordo senso scusate no allora io quando posso vado ai festival e poi magari magari non parlo del cinema italiano ma io ho dei film interessanti di sperimentazione la vedo il tema è che c'è un problema ci sono due mondi c'è il mondo del festival e il mondo del cinema che esce nelle sale e non credo che si parlino tant'è che anche vi saluto i miei amici di uzak.it con la k e ho detto Rezzi però non potete fare una fanzine di critica cinematografica dove i film non si possono vedere cioè nessuno dei vostri film si può vedere da nessuna parte perché li avete visti voi ai festival perché avete tempo di andare ai festival e però cosa mi pensavi tu? allora io non ho questa cultura festivaliera sinceramente non vado in giro per festival non vedo i film che non escono insomma non ho più quella passione lì quindi ho dei film che escono al cinema conosco critici amici appassionati che mi fanno questi discorsi ma non mi fido perché sono gli stessi che poi parlano di certo cinema che a me mi sorprenderebbe molto perché non è un problema solo del cinema purtroppo è un problema sociale culturale diffuso siamo vivendo sarò un boomer incoglionito però stiamo vivendo per me un decadimento culturale quindi non c'è credo a sta cosa che come anche molti dicono vedi come ce l'hai fatta te ci sono tanti altri in Italia che no mi spiace non voglio fare l'egocentrico però non è vero non è che c'è tutto sto cinema indipendente meraviglioso italiano che non trova visibilità io l'ho visto ecco quelli italiani intanto mi fanno vedere indipendenti fanno schifo quanto quelli grossi quindi mi dispiace dirlo ma no il cinema per me è in evidente crisi creativa come lo è la musica come lo sono tante altre forme espressive che poi di nicchia ci si possa trovare qualcosa che vale sì regà ma la forza di queste forme espressive la musica popolare la cinema sono sempre state quelle di saper parlare a un pubblico ampio a me non me ne frega un cazzo e tu fai guarda c'è quello che è bravissimo suona sì ma se non raggiunge il pubblico in nessun modo sì certo perché c'è un problema industriale di distribuzione certo che c'è ma secondo te è un problema che non c'è il pubblico per queste opere non c'è il pubblico o la qualità non c'è nemmeno la capacità da parte del creatore di creare un prodotto perché il cinema e la musica popolare hanno bisogno di parlare al pubblico ampio basta con quelli che ti dicono no ma c'è quello che però ma che cazzo se non riesce a raggiungere il cinema di nicchia bellissimo ma non può sopravvivere cioè l'inch fa dei film del cazzo però che parlano a un pubblico ampio capito ma non ampio quanto fosse Spielberg però è ampio sì quindi eppure sono film contorti difficili no per certi versi però la bellezza di questo cinema del cinema è che è un linguaggio che nei punti alti unisce una facciata che può Kubrick piace a tutti però molti di quelli che amano Kubrick magari non colgono tutto quello che c'è dentro ma non fa niente è il bello del cinema è il bello delle forme espressive popolari alte cioè che riescono a unire fattori che possano parlare a un pubblico magari più preparato come un pubblico più occasionale oggi noi abbiamo un prodotto che o parlano ma manco più quello al pubblico occasionale o forse parlano al pubblico quello più non va bene perché non è il cinema è una forma comunque anche di industriale e di intrattenimento non è non può essere non può sopravvivere ma infatti i grandi autori che sicuramente conosciamo hanno smesso anche hanno perso la voglia di fare il cinema perché il mio film anche perché è un film ne parliamo spesso noi che siamo appassionatissimi cioè una volta una volta sembriamo dei boom è proprio così accadeva quello che è successo quest'estato con Barbie e Oppenheimer ci accadeva sempre tutte le settimane c'era un Barbie Oppenheimer perché il film erano culturalmente socialmente una cosa importante e nei registi ambiziosi e non voglio dire che dobbiamo essere tutti ambiziosi però perché no cosa c'è di male nell'essere ambiziosi che dicono no ma io non voglio più fare un film se il mio film se ne parla per tre giorni e poi non se ne parla più cioè io voglio fare un'opera vorrei fare un'opera e ambizio a fare un'opera che in qualche modo incide nella costume poi per carità perché poi come azione la gente ti dice ma che stai c'è stato un sacco di cinema nel passato che era fatto per un pubblico di nicchia certo non sto dicendo che tutti i grandi registi hanno sempre venduto hanno sempre incassato al box office no c'erano anche anime di cinema meraviglioso di nicchia va bene però voglio dire il grande cinema che ha appassionato tutti spesso erano autori difficili ma che appassionavano anche i pubblici poi per questo per chiudere sul mio film cioè per chiudere perché poi non voglio che passi appunto l'idea che il mio film lo vai a vedere una cosa è un film normalissimo per me è un film popolare è un prodotto popolare ripeto infatti quali sono gli artisti a cui ti sei ispirato che è una domanda orribile però diciamo se dovessi dirmi no il più che ispirato sai che si dice nelle start up che devi fare sempre un esempio tipo non so Lynch sotto effetto di che ne so speed una roba misto per far capire sì farei la cosa più banale che hanno detto anche altri uno potrebbe pensare per chi ha una cultura molto recente una sorta di perfetti sconosciuti mischiato con Bunuel o Polanski beh io non so così l'andrei a vedere non sarei completamente d'accordo nel senso che perfetti sconosciuti è la scuola della commedia all'italiana corale che viene da molto prima da scuola voglio dire non è che è perfetto sconosciuti quindi sì io direi c'è un'impronta da commedia corale italiana che poi hanno fatto anche americani con derive un po' più autoriali che possano possono in maniera evidente ricordare Bunuel Polanski ma non perché non perché io mi sia ispirato ma è perché un po' mi piacciono a me e un po' perché funzionava è un prodotto che secondo me manca in Italia è proprio questa come ti dicevo cercare di unire una lettura piacevole intrigante che può fare chiunque con degli aspetti invece che può notare qualcun altro quello spero che sia il film e che è un po' ma è solo in Italia che non si riesce a fare quel cinema o non si riesce a fare oramai non si fa più da nessuna parte in Italia siamo molto avanti però perché il cinema americano è sempre stato l'apice diciamo dell'Occidente negli ultimi 40-50 anni pure di più 60-70 anni l'altro giorno Scorsese l'ha detto ma Scorsese pure lo dice da decenni e gli dice ah rincoglioni non capisci niente e ora forse ce ne siamo accorti che quei rincoglioni diciamo ha ragione la New Hollywood non si è rinnovata cioè non è arrivata una nuova generazione i registi americani ma come quel film lì è bellissimo ma non sto discutendo qualche film bello c'è ovvio non ci mancherebbe ma non ci sono intanto non ci sono più autori capaci di avere una carriera con tanti film che parlano al pubblico e alla critica diciamo per semplificare la cosa e poi spesso o sono successi di massa ma magari che non riescono a influenzare socialmente e culturalmente la società oppure sono roba un po' troppo di nicchia che magari ha azzeccato il film ma comunque non ha segnato di nuovo non si riesce d'altronde lo vedi non ci sono registi oggi incapaci di chiamare pubblico in sala c'è solo Christopher Nolan e Tarantino e vabbè è anche lui che fa un film ogni 12 anni anche lui però appunto non si sa più perché ci mette talmente tanto oramai è più il mito di andare a vedere sto film che ci mette lui per chi non ci sta vedendo è James Cameron secondo me James Cameron se domani fa una commedia a basso costo non ce va nessuno me lo chiedo anch'io il prossimo il terzo che uscirà mi chiedo se riuscirà a incassare così tanto come gli altri o se invece no perché non ci sarà tutto quell'hype durato 13 anni incasserà perché comunque ha ritardato di un anno per lo sciopero no no per lo sciopero perché doveva uscire già nel 2024 incasserà perché comunque anche il 2 è andato molto bene forse è destinato a scendere non lo so io spero incassi tanto perché a me è piaciuto tantissimo eh sì guarda ne parlavamo prima che arrivavi c'era questo tema legato al fatto dovevo sapere cosa ne pensavi cioè non so come dire sono andato anche al cinema recentemente con una persona giovane e il film non gli è piaciuto e l'ha vissuto e l'è uscita questa persona traumatizzata dal fatto che non poteva che ha portato a vedere e tra l'altro un film che mi piace tantissimo si chiama Patagonia che è quello di questo regista adesso Davide come si chiama non mi ricordo è un'opera prima sì è un'opera prima Simone Bozzelli che tra l'altro verrà qui prima o poi a parlarci doveva venire poi io avevo il covid vabbè insomma questo film un film d'autore sicuramente però godibile cioè non era un film post-avanguardia ho visto di fianco a me questa persona giovane soffrire perché ho visto il cambio generazionale nel senso noi siamo forse nati in un mondo dove tu per due ore non puoi fare niente e c'è una cosa che magari non ti fa impazzire però dici vabbè vediamo come va a finire un ragazzo non ce la può fare si sente stuprato perché dici io ho bisogno perché anche oggi li vedi ti parlano non ascoltano cellulare oppure un video non ti piace swipe up cioè non c'è più la capacità cerebrale proprio di stare dietro una roba che poi non ti piace magari nella prima mezz'ora però se entri nella storia poi ti piace non so come dire c'è quel problema anche di fruizione e basta no quello assolutamente è un altro problema enorme per le nuove generazioni chiaro ormai abbiamo dato questi prodotti di fruizione manco più dei pochi minuti dei pochi secondi come fai a costringerli a stare dentro una sala per due ore a vedere un qualsiasi tipo di film che non sia quello Marvel o compagnia io Patagonia poi nello specifico non l'ho visto a naso un po' non credo stiamo sempre in quel filone di cinema che non credo che possa parlare alla casalinga no anzi a me dispiace perché ne ho letto alcune critiche positive è uscito insieme anche a una sterminata domenica che mi sembra stiamo sempre lì per carità io non l'ho visti quindi non giudico la qualità del film giudico sempre però anche per come è stato venduto mi sembra l'ennesimo film che bello brutto che sia devi trovare l'amatore proprio di quella situazione non se ne esce così in una situazione così delicata manca il prodotto medio di qualità e manca il prodotto alto che però abbia anche un aspetto medio se non se non si riesce a fare sta quadra la gente non tornerà più al cinema perché non gli intercetti non gli intercetti non basta un buon film d'autore per risvegliare l'animo ne parlavamo prima cioè sapere cosa ne pensi tra la differenza tra la fruzione delle serie e dei film perché quello che si dice sempre in questi casi è ok non c'è più il film e il cinema figo di quello di cui stiamo parlando però ci sono le serie si dice si è spostato nel mondo della fruzione domestica perché le serie attuali non sono più le serie di una volta c'è dentro tantissimo spessore sia dal punto di vista della scrittura dal punto di vista visivo dei budget enormi mentre invece la tv prima erano delle sitcom vero però cosa ne pensi beh io non ho parlato in maniera dettagliata in un video e mi sono preso le critiche no è un blef le serie tv sono un blef cioè al di là di quelle fatte non a caso dai grandi autori cinematografici le serie tv anche le più belle cioè cerco sempre di far capire non dico che sono brutte le serie tv ma è un prodotto fatto apposta per incastrarti da un lato per costringerti a vedertelo tutto dall'altro per darti la sensazione che ti sta piacendo una cosa difficile alta quando non lo è cioè la serie tv è un prodotto medio che però ha una facciata alta che cattura il pubblico proprio perché si sente improvvisamente cazzo vedi mi sta piacendo una cosa bella non mi sta piacendo una cazzata non mi sta piacendo il grande fratello io feci questo paragone azzardato però per me funziona nel senso il grande fratello vip se superi il disgusto dei primi minuti se incominci a vederlo te piglia una certa te lo segui anche se quelli che se baciano litigano se lo vedi così dici ma che è sto schifo se te metti lo vedi perché è costruito in modo da incastrarti la serie tv è la stessa cosa ovviamente con un livello di base diverso però è lo stesso principio tant'è che lo dico sempre il luogo comune delle serie tv ma devi superare i primi episodi poi ti piace pure il grande fratello vip supera le prime puntate poi ti piace perché non è più non stai più c'è una partecipazione emotiva che che va al di fuori dell'effettiva qualità del prodotto è semplicemente ti crea compagnia tu diventi ti affezioni a quei personaggi che condividono le tue giornate e il prodotto è perfetto perché dura poco lo puoi interrompere quando vuoi è costruito in modo che ogni tot succeda una cosa che ti costringe aspetta no fammi vedere allora ma sono tempi morti dilatati in maniera impressionante le serie tv anche le più belle io dico sempre Breaking Bad che è una bellissima serie ma la potei raccontando ore ecco su questo ci scorniamo con loro non sono d'accordo con te magari non due ore si poteva fare più breve però in effetti capisco all'interno c'è un sacco di roba c'è un sacco di compagnia c'è delle cose che me lo vedo perché ma in termini proprio di effettivo racconto poi ripeto se ti vedi per esempio Twin Peaks la terza stagione di Twin Peaks di Lynch per me è un capolavoro assoluto ma lì è un film è un film di 18 ore di 300 ore è un film alla Lynch per cui c'ha anche dei momenti che puoi pure alzarti andare al bagno e d'ordine succede niente però c'ha dei momenti c'ha dei momenti di cinema altissimo altissimo e non è il problema infatti non è che è la televisione o il fatto che so degli episodi il problema è come sono cioè è ovvio che Lynch non ha fatto quella serie dicendo devo mettere queste cose perché così il pubblico rimane a vedere assolutamente ha fatto risvegliare Cooper dopo 17 puntate anzi a me una delle cose che mi ha emozionato è che proprio lui che ha fatto in qualche modo nascere la serie tv moderna con Twin Peaks l'ha distrutta l'ha distrutta cioè ti fa una serie una stagione che proprio ti dice smettila non la guardare non la guarda inutile e noi lì invece imperterriti però ogni tanto mi sa che anch'io da fan ho fatto fatica quando lui parla così per la ventina puntata hai rotto i coglioni ci sono dei momenti che hai rotto il cazzo veramente la puoi mettere sottofondo e fare qualcos'altro però lo capisci nell'insieme quando la chiude capisci tutto e dici cazzo meno male che l'hai messo in quei momenti se no non sarebbe stato così bello quell'altro momento dopo capito il resto delle serie sono bellissime io ho visto tante però non è che vedo tantissime perché da che un muro mi sono stufato ma il meccanismo dopo un po' basta l'ho capito e so già che tu mi incastrerai e io resterò lì a buttare anni nella mia vita a vedere tutti gli episodi infatti per me Breaking Bad è l'eccezione che hai citato proprio l'eccezione ma se no ho potuto citare apposta quella più alta che se no è troppo facile citare le altre però anche Breaking Bad io non le finisco mai Breaking Bad sono arrivato alla quarta stagione ma dai me ne frega un cazzo pur io non le finisco mai tranne Breaking Bad se le molli dopo due giorni che le hai mollate l'ha detto pure Tarantino sul momento ti sembra che stai avendo una cosa grandiosa due giorni dopo sei smesso ma che cazzo me ne frega a me ne frega niente no ma anche quando finiscono che dici manca due episodi manca un episodio è finita infatti i luoghi comuni sono i luoghi comuni in serie tv che infatti fanno capire il mio discorso sono appunto aspetta qualche episodio e poi le prende certo per me è l'opposto per me tante mi piacciono gli primi episodi e poi dopo dico basta ma stufato quello è un bel punto di vista osso e nocce la classica cosa finale ma deluso peccato il finale è certo perché una certa deve chiudere è impossibile chiudere e soprattutto te risvegli dal torpore in cui vedevi la cosa ah è finito no che delusione no è vero ma infatti io che ho guardato ci sono corsi proprio specifici l'ho anche frequentati alcuni online di scrittura per le serie ed è tutto completamente un copy and colla di un mainframe scientificamente provato che deve funzionare in quella maniera dove l'episodio deve finire in una certa dove c'è tutto un sistema proprio di geometrie che deve incastrarsi e se tu vedi quei corsi di scrittura delle serie cazzo poi non riesci più a vedere le serie perché dici ah certo quello è il capitolo 2 del corso di scrittura adesso c'è Luke ah c'è Luke quindi c'è quella figa ah ok che questo non vuol dire perché in realtà poi chi ha studiato drammaturgia sa che persino capolavori pure la strada di Fellini è scritto secondo vari canovacci mitologici della scrittura ma non è solo quello non è solo quello invece le serie sono solo quello la serie tv vive solo se ha un seguito che è continua quindi non si possono permettere di fare cazzate che poi uno non lo vede quindi è un prodotto che non può avere la libertà che può avere un film perché un film comunque ti prende un'ora e mezza due ore puoi puntare su una tipologia di pubblico diversa la serie tv ti deve incastrare cioè tu devi star lì non solo devi vedere l'episodio dopo ma devi vedere la stagione dopo quella dopo quindi è un prodotto fatto su misura che tristezza se sei d'accordo il fatto che hanno sostituito i film nel discorso comune perché quando si va a cena hai visto come si chiama quella sudcoreana Squid Game hai visto Squid Game no perché l'impatto sociale di cui parlavo parlavamo adesso ce l'hanno le serie tv il problema che ha un impatto mentre i film avevano un impatto sociale che durava decenni no non solo perché ti prendevano nel profondo e duravano decenni le serie tv durano il tempo di quella dopo cioè già oggi se parli di una serie già Breaking Bad comincia a essere una cosa mitologica i giovani già sanno qualcos'è perché sono prodotti che facilmente ti possono colpire nei chiacchiere poi questa cosa che c'è in episodio dietro l'altro ma dopo poco arriva subito invecchiano subito le serie tv d'altronde le serie tv sono sempre esistite ma fai vedere a un ragazzo una serie tv degli anni 80 e 90 impazzisce perché sono invecchiatissime i film stanno cominciando a invecchiare i film stanno cominciando a invecchiare proprio perché non c'è più un interesse nel pubblico giovane però hanno resistito per decenni i film a dolce vita ancora oggi tu pensa che invece nel cinema può accadere il contrario cioè per esempio film come Barry Lyndon che quando sono usciti è stata teoria dei flop figa adesso lo vedi e dici è un capolavoro se ti piace il cinema assolutamente le serie tv voglio vedere chi è che le va ripescare dopo 30 anni ma non è possibile che le serie tv le interrompano se non hanno successo le interrompi fai una stagione è morta non è che dici poi comunque come sono rivisto quelle 5 stagioni in quella serie non ha visto nessuno ne fanno 5 stagioni a parte qualcosa in Italia comunque fanno sì perché poi non lo so ma secondo te il mondo ha bisogno del cinema me lo domando spesso anch'io perché io ho bisogno del tuo cinema sicuramente il mondo avrebbe bisogno non del cinema il mondo sarebbe fondamentale per il mondo avere un interesse culturale per il mondo poi insomma per noi uomini esseri umani maschi cioè donne non ci interessano per noi esseri umani sarebbe fondamentale come lo è sempre stato avere un interesse culturale per le espressioni artistiche voglio dire ti aiutano ad amare di più la vita a capire meglio noi stessi a capire la società e tutto quindi poi nulla è indispensabile come molti dicono vabbè come è successo per altre forme d'arte muore il cinema e nasce un'altra quale? di solito quando c'è questo passaggio lo vedi non è che è un videogioco si dice così adesso si dice il cinema non c'è più perché tanti tanti critici cinematografici più filosofici dicono beh il cinema è morto no il cinema è ovunque perché comunque non ci sono mai stati così tante videonarrazioni e ad esempio anche i montaggi dei creator è cinema quello il cinema per esempio quando io ho visto i primi video di Montemagno che faceva il jump cut quanti saremmo stati in 30 che mi hai detto figa è Godard ma la gente dice è jump cut Montemagno è un nuovo Godard no non per parlare sempre di James Cameron ma questo quando doveva fare un film neanche quelli di adesso ma i film che faceva negli anni 90 quello smuoveva le montagne per fare cioè sono delle cose ci vuole un'altra devi essere un super uomo per fare il film non le possono fare tutti non sei d'accordo sul fatto che il cinema non c'è più come lo immaginavamo noi ma è diventato tutto cinema tutto cinema nel senso di fruizione audiovisiva sì va bene oggi tutti vediamo contenuti visivi audiovisivi va bene ma non c'entra niente è come dire oggi leggiamo molto più di prima perché siamo tutti su whatsapp che cazzo vuoi dire sì certo leggiamo più di quanto leggevano prima c'è chi l'ha detto si chiama Derrida ha detto vedrete che in futuro la parola scritta supererà la parola parlata infatti ha avuto ragione un filosofo e che infatti però usiamo whatsapp vabbè però magari intendeva una cosa un po' più però comunque no non c'è più il cinema è andato da fatto non c'è più non c'è interesse nei giovani non ci sono più non c'è è andato da fatto poi non è detto che non possa rinascere in qualche modo ad oggi io sono molto pessimista non vedo come perché però tutto può essere speriamo vediamo ripeto ora esce il mio film senti ma quanto è durato lo shooting? poco tre settimane insomma beh per un film tre settimane io fa minimo diciamo cinque settimane cinque o sei settimane i film proprio quelli tre settimane ma infatti ripeto quando l'unica cosa che torna sempre a tutte le distribuzioni a cui poi ho fatto vedere il film è che comunque insomma l'hanno riconosciuto dicendomi con quei soldi lì noi non saremmo mai stati in grado di fare questo film che tu hai fatto comunque dal punto di vista chapeau almeno quello ma si potrà vedere online a un certo punto spero più in là possibile come tutti i film dopo che avrà finito il suo percorso in sala anche se anomalo quindi non si hanno i tempi precisi ovviamente se lo fai venire a Milano io voglio vedere assolutamente beh ci mandi il link a noi chiaramente sei stato nostro ospite vediamocelo adesso qui sul cellulare esatto mi domandavo tu che sei tornato a Roma quali sono i registi italiani che adesso all'estero funzionano sono Sorrentino Guadagnino Muccino tutti quelli con Ino negli anni 60 era Ini adesso è Ino infatti questi di adesso di adesso sono già vecchio ma Sorrentino Guadagnino e Garrone e cosa ne pensi? a me piace molto oddio gli ultimi due film non mi sono piaciuti però mi piace moltissimo Garrone mi piace Guadagnino Sorrentino alcuni film molto ma spesso no cioè complessivamente Sorrentino proprio non lo sopporto ok siamo tutti d'accordo è una tipologia no è una tipologia di cinema che proprio mi dà fastidio però è uno che insomma quando l'ultimo a me cioè dove sta perché lui è riuscito a fare quello che non è riuscito a fare nessun altro in Italia cioè quindi avere budget di tua per fare delle serie americane quello perché comunque ha un linguaggio visivo molto molto appariscente quindi voglio dire è facile che colpisca anche all'estero poi ha avuto non so se l'ha furbato comunque insomma ha sentito il bisogno di raccontare anche certi cliché italiani che piacciono molto all'estero quindi sicuramente ha una padronanza nel mezzo in termini visivi che per forza gli va riconosciuta non mi appassionano i personaggi nel suo modo di raccontare il suo universo però ripeto per esempio il divo è stata la mano di dio sono due fini che a me sono più di tantissimo quindi a volte se non me riesce a trovare quell'equilibrio tra racconto e impostazione visiva e più delle volte mi sarebbe sfondo a tutto però per carità ce ne fossero i registi comunque ad esempio Guadagnino è uno che non ha mai fatto parte dell'industria non ha mai parato leccato il culo a nessuno io lo so per amici in comune e si sa cioè lui è riuscito a fare quella roba lì Guadagnino io l'ho sempre trovato interessante è uno che sa scegliere i copioni a volte e anche lui ha una padronanza tecnica visiva no non mi dispiace anche se anche lui a volte insomma un po' troppa roba pure Guadagnino se non me dovrebbe asciugare un po' a volte l'ha fatto tipo call me by your name mi è un po' piaciuto come film e funziona benissimo a volte esagera però è tipo Suspiria Suspiria è veramente carico però anche Suspiria a me è piaciuto ha delle cose veramente che comprendi la maestria poi lì è molto carico quel film ci sono troppe cose alcune forse se le potete risparmiare però secondo me nell'insieme funziona e sono quei casi in cui io dico quella cosa che mi dà fastidio quando si dice apprezzo non lo sforzo ma apprezzo l'idea c'è il tentativo di fare una cosa di quel tipo non mi è dispiaciuto per niente anche l'ultimo come si chiamava Bones and Roll esatto anche lì è uno che conosce veramente il cinema cioè non gli vuoi di niente sono tutti buoni film poi magari manca quella scintilla per dire cazzo ho visto però però anche uno molto coraggioso perché veramente salta ma anche solo accettare di fare il remake di Suspiria ma chi te lo fa e invece se l'è giocata bene secondo me poi ripeto il film può piacere o meno però non è che ha fatto una cosa che dici hai copiato da l'energente o è inutilmente ha fatto una cosa completamente diversa è sicuramente interessante non mi guadagnino piace poi non è che mi rivedrei i suoi film però sai che l'ultimo quel film non l'ultimo quello che hai detto tu con Me By Your Name è girato a Cremona e ho letto un articolo che praticamente gli americani hanno iniziato a fare i pellegrinaggi per vedere Cremona perché quel film ha avuto talmente successo sì ma anche lì sono quelle cose italiane che piacciono all'estero comunque che sia la città a Roma che sia la campagna la provincia colpisce comunque anche Bertolucci è stato un po' paraculo ogni tanto sull'Italia ma che cosa aveva fatto quella roba Guadagnino è tutti gli Oscar sono paraculissimi su quest'idea di Mediterraneo Guadagnino è molto Bertolucci come Sorrentino è un po' figlioccio di Fellini Guadagnino è un figlioccio di Bertolucci ovviamente sì siamo da quelle parti là quindi ma ci sta non c'è niente di male ma tu gireresti mai un film non so che ti viene come dire finanziato da un ente pubblico che ti chiede però di comunicare e fare venire voglia alla gente di girare in quel luogo patrocinato dalla regione basilicata ma certo se c'è la possibilità per me di creare un contesto che non mi piace ma che problema io ecco questo voglio far che non è che sono contro un cinema che sia legato anche a procedimenti commerciali assolutamente è normale sia così essendo un'industria che costa è normalissimo tanti capolavori sono nati così non è un problema ma ripeto l'ho fatto anche sul web ho fatto Air France ho fatto altre cose cioè non sono uno di quelli con la puzza sotto il naso sono cose di nicchia indipendenti che nessuno vuole vedere no ma per carità ma magari se c'è qualcuno che mi propone una cosa del genere e questa cosa di quest'estate barbie openheimer come te la sei vissuta cioè è stato un amare no non me ne è fregato niente perché anche su questo ho fatto un video ma come ti spieghi come è stato possibile che sia accaduto questa viralità non ho visto nulla di particolarmente sorprendente uno è Nolan che lo dico sempre è l'unico regista insieme a Tarantino capace di attirare pubblico è sempre stato così quindi non mi sorprende e barbie è un film che parte da un da un marchio famosissimo gli americani l'hanno fatto in sacco dei film così e funzionano in più c'è stata questa ghiacchiera del film in contemporanea e il cavalcare certe tematiche calde in america adesso o tutte le legate a queste questioni patriarcate sì quindi voglio dire comunque con un caster relativamente anche se poi abbiamo visto che gli stessi attori messi in altri contesti non attirano pubblico però voglio dire non è non mi aspettavo forse un successo così grosso non si aspettavano manco loro però io avrei scommesso sul successo in sé certo poi so quelle cose poi capitano anche un po' di coincidenze fortunate ma non vedo né una rinascita né una cosa incredibile è uno di tanti grandi blockbuster americani che ha funzionato ma secondo te questo evento appunto social mediatico ha creato un case history come diciamo non è Milano che rivedremo cioè abbiamo imparato qualcosa che c'è un modo per portare la gente al cinema sfruttando i social media ma non credo siano i social media semplicemente vedrai che Nola nel prossimo film che sarà di nuovo incasserà un botto e se trovi di nuovo come hai fatto Super Mario è incassato hai fatto Barbie è incassato se fai il film non lo so tratto da qualche altro marchio internazionale hai una buona probabilità se lo fai poi incorniciato diciamo in una maniera anche di marketing funzionale non vedo perché debba andare contro un flop cioè ci sorprendiamo nell'incasso di Barbie sì ripeto ha fatto più di quanto uno poteva immaginare ma non è che si è parlato in film di nicchia ad autore su una storia che nessuno conosceva poi non ho manco visto Barbie odio la regista cioè non ti piace con neanche i film precedenti odio lei perché è una dei tanti merde hollywoodiane che hanno voltato le spalle a Woody Allen dicendo non ci lavorerò mai più un pedofilo ma è la lista nera lì per me quelli proprio poi lei che è una che insieme al marito non so sono sposati copiano Woody Allen dai primi film che facciano non ti permetti di una cosa ma sciacqua dalla bocca e poi sei finita a fare non so perché sto guardando in camera come se stessi ascoltando questa la tagliamo sei finita a fare film anzi le scriveremo guarda che c'è una puntata sotto ti togliamo sotto ti togliamo bravissima ragazza bene Svevo c'era una domanda che voleva farti Giovanni e quindi te la riporto quella quali siti ci consigli per se esistono al di là del tuo canale youtube per così indagare scoprire nuovi film interessanti da vedere al cinema cioè quali che usi tu non li uso che dieta come selezioni i film che vai a vedere mi deluderò ma non posso rispondere a questa domanda perché i film mi seleziono semplicemente perché conosco i film quindi so gli autori o comunque le scuole cinematografiche che mi interessano poi come ci siamo detti prima nell'intervista oramai io ho poco tempo per andare al cinema quindi faccio una selezione ancora più più ferrea quindi voglio dire vado a vedere grosso modo solo i film che so che c'è una buona probabilità dietro autori o attori che mi piacciono quali film stai aspettando? no per esempio volevo andare a vedere nonostante sia stato distrutto l'ultimo di Polanski sicuramente ma non sono riuscito ancora ad andare no oramai faccio veramente non voglio manco dire aspetto il nuovo debut di Allen no aspettavo Liguerrone sono andato appena uscito beh c'è Scorsese che deve uscire adesso quello con DiCaprio mi gioco tutto che non mi piacerà però sì ecco leggo determinati critici che magari mi interessano e spesso magari mi trovo in sintonia quindi a volte no però non è che faccio mai una selezione in base alla critica però diciamo che se tutta una serie di critici mi parlano di un film che io non ho visto come una cosa incredibile cerco di recuperarlo però è raro voglio di no non saprei consigliarvi perché non ho nemmeno comunque dei veri e propri critici di riferimento o dei siti leggo tutto ma faccio una cioè leggo con un occhio con l'altro ragiono su altre cose quindi no purtroppo c'è pure poca roba sinceramente sì devo dire sì nel mondo del cinema dai è un po' è diventato una roba un po' di no è di nicchia ma è di nicchia cioè parlano tutti anche di questo l'hanno parlato in un video parlano tutti online dei film dei Barbie di Oppenheimer oppure c'è dei festival è interessante che il cinema non ne frega un cazzo a nessuno ma tutti devono andare a fare il tapieto rosso a Cane a Venezia è ovvio quest'anno poi c'è stata una contaminazione con il web pesantissima a Venezia beh ormai puntano a mettere dentro quella gente lì perché porta visibilità anche se non c'entra nulla col cinema si prova tutto oramai voglio dire stanno messialmente male che ci provi in qualsiasi modo però non è quello secondo me la maniera per uscire da questa crisi anzi è ancora peggio Svevo sarai tu a risolverci il festival italiano il film cimeteo ne siamo certi mondiale no italiano e noi diremo ce l'abbiamo avuto esatto esatto e vabbè coordinate per seguirti anche se lo sanno tutti però basta googlearti però il film si chiama gli ospiti io non so quando andrai in onda sto podcast dopo domani ah ok si potremmo fare vabbè insomma quindi a breve nel 2025 il 12 ottobre giovedì 12 ottobre esce al cinema lux di Roma e intanto sta per una settimana il weekend è tutto pieno quindi per chi volesse guardare sul sito per vedere dove ci sono dei posti e venite spero che il cinema come credo lo terrà ancora anche dopo quindi chi è in zona Roma la possibilità di vederlo al cinema e venite a vederlo al cinema perché nonostante i 100.000 euro di budget è un film che merita di essere visto al cinema chi sta a Roma insomma lo può vedere lì spero credo ma spero soprattutto che a breve riuscirò a portarlo a portarlo a portarlo a chiavetta a portarlo anche fuori da Roma insomma per me oddio siamo in Italia quindi tutto può essere però sarebbe un bel suicidio da parte di tutti non approfittare comunque di questo progetto che ha già dato modo sul territorio romano di vedere che funziona perché non portarlo anche un po' in giro per il resto dell'Italia però se sa mai può essere tutto quindi spero veramente di riportarlo a Milano sicuramente dove ho una buona fetta di fanbase ma insomma un po' ovunque dai grazie grazie a voi ragazzi è stato un piacere una bella chiacchiera beh sì abbiamo fatto un paio d'orette due ore va bene grazie buona Milano ciao ciao questo è il Bazzar Atomico ciao